Finalmente si fa nel cazzo di capitolo 2 Ci sono volute solo 10 live Ma veramente devo mettere le torce? Non basta quella di Shadowheart Cazzo stiamo tutti con le armi a due mani però Oltre questa roba deduco che dobbiamo stare con una luce Eh sì immagino che questo è piano delle ombre Proprio quindi vengo deflagrato nel culo Subito Siamo appena arrivati Shadowheart ha fatto fine da mamma che è? Not as badly at least Do you know what this means? I must be blessed Lady Shire is protecting me where others are left to face her wrath She loves me She must do Shadowheart ma che te si fuma da debotto? Eh per dire mamma me ama per forza Ma è io? Che cazzo vuol dire ma è io? Non farti prendere all'entusiasmo potrebbe voler dire qualcos'altro Carried away Hardly The proof is right there Just be grateful someone can handle this place Lady Shire wouldn't bless me like this for no reason There must be something she wants of me Those signs we found about Dark Justice Perhaps they were no coincidence In either case I need to watch for any place dedicated to Lady Shire A temple perhaps Eh vabbè cacciate fuori le torce Basta una torcia di merda Per contrastare il reammo oscuro Allora però facciamoci un attimo furbi effettivamente Perché se poi entra un fight io non posso combattere con la torcia Quindi togliamo esilio e mettiamo luce diurna che crea essenzialmente sto piccolo sole che illumina tutto quanto Si ricomincia a esplorare Figata Non morto dell'ombra Chi muore nell'ombra resta nell'ombra Questa entità riduce la sua forza e i suoi punti feriti È resistente ai danni necrotici e non può lanciare incandesimi né attaccare con un'arma E la madonna Immaginate che bello se si alzava e mi attaccava il bue Sarebbe stato bellissimo Che bello però sto contrasto scuro rosso Ah ci sono dei goblin con dei bugbear E delle iene Ah proprio riunione dei condominion laggiù abbiamo vedo Ah mi sa che è finalmente un mezzorco Osserva la situazione Come pensi di farmi attraversare questa oscurità maledetta Ne approfittiamo un po Ah un'ultima cosa Va a prendere l'osso che hai lanciato Grazie gioco Coloro che mi rifutano non vivono a lungo Così ti impari a far morire una porra bestia vai Occhio per occhio Dente per dente Naso per bocca E non si può continuare per fare una cinta No Oga sta cominciando a diventare stronzetta in questo gioco Così si impara a fare ste porchettonate Ah minchia Non sono morti Stanno là sotto Ma forse perché sono tipo controllati Cioè non morto dell'ombra Che diventa effettivamente Un'entità controllata dalle ombre Che vuole Gale? Ma è abbastanza divertente Per combattere a soltanto creature Come questa regione E' specialmente A vostra parte Mi sento Un libro Che ha spiegato in alcuni dettagli L'effetto che un brush with danger Ha su un desiderio Per Un'altra forma Di stimolazione Hai mai read Niente Niente Che ha il durello? Mi piace questa Leggere Potrei scriverne Io credo Non si è mai così bella Come al fine Di una battaglia Tuoi occhi Flush Gagli Bright Muscle Glistening Talmente È solo il rilassamento Nella pronta Nella esperienza Parlamento Standing at your side Through such darkness And disrepair It only makes me want you more Unfortunately This is neither the time Nor the place To indulge such feelings So We must be patient And push all Such thoughts aside For now Però Minchia Mi è piaciuto Stare nel dialogo Molto affascinante Si calmati Però è affascinata Ma anche gli altri C'hanno qualcosa da dire Do you feel that? I've never felt so cold And that's me This place Will swallow us whole If we let it Stick close to Mama Kay Resta vicino a Mama Carla Che però in inglese è più bella Perché dice Mama Kay Che bella Prima di andare avanti però Di qua tanto non ci passeremo Vai Tu che hai la mazzetta Cosa hai percepito No c'è qualcuno Gli ho fatto venire Shadowheart da sola Bello che lei la protegge Char Questa è casa sua I rampi Ah minchia C'hanno la barra Proprio della vita E mi vedono i rampicanti Sì sì erano proprio i rampicanti Erano le piante Rampicante maligno dell'ombra Sentinella perfetta Non può essere sorpreso Puoi vedere l'oscurità Forma di rampicante Quando subisci un attacco in mischia Potresti intranciare l'attaccante Casi al tuo rovio Sì in questo posto Qualsiasi cosa ti vuole accoltellare Madonna ma so enormi Ma so giganteschi Allora avvicinati Usiamo guardiani spirituali Tanto sarete deboli Io deduco Al sacro No perché È un vegetale Quindi manco per il cazzo Robbe facciamoli Sacri Fai un passetto di qua anche E caccia fuori Mazzetta E via Becca 14 danni De mazzettata Questa shadow art da sola Se la può fare Per questo non sto chiamando Gli altri ragazzi Questa shadow art Se la può fare Tranquillissimamente da sola Perché si riallontano Perché ho la luce Si allontanano dalla luce Ce ne andiamo qua Eccoli qua Ne hai messo uno Ma sti cazzi Esplodono pure Quando muoiono Poi vabbè Sono fatti anche Per essere molto deboli Se hai la luce dalla tua Quindi è una figata Come cosa Allora Facciamo un po' di Di kill ragazzi Che belli Guardiani spirituali 20 danni Mi hanno interrotto La concentrazione Pezzi di merda Tiro per colpire Su questo Muo esplodi No mi sa che esplode Soltanto in delle Circonstanze Molto specifiche Eeeh Qua è sempre La tattica Lilith Ma in realtà qua c'è pure Una cosa che molti sottovalutano Ovvero il potere Esaminare i bersagli Però la cosa di poter Aprire letteralmente La scheda dell'avversario È una cosa molto potente È una roba che anche In D&D Tu tecnicamente È raro che fai Perché giustamente Non è che il master Te passa E debolezze Perché tanto se tu li distruggi I rovegli Loro non spawnano Perché non è che Erano nascosti No 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 Loro erano proprio Questi Arboscelli qua Parliamo con il nostro Cancif Sì è un mezzorco Parli per caso Della lira Del ragno Che c'aveva La Drow Perché serve una lira Mi viaggio verso Le soluzioni dell'alba Lunare Proprio come te Aspetta qui che torno Minchia comunque quanto Sono bei differenti I goblin È incredibile sta cosa Spero Da bravo a cattone Sì cazzo Madonna bravo a cattone Leach Che culo Ce l'ho Eccola eccola Se viene un ragno Porca ma Ma come intrattenere Vabbè che c'ho più tre Effettivamente sono un cazzo Di bardo E pizzica la lira Mi dai cinque Sedici Ma scusa Ma metti caso Che la True Souls È una bestia De satana Che c'ha veramente Meno otto A intrattenere Questa cosa Come la usi Ma usala tu Se tanto sai E meno male Che ci abbiamo Dao una d'orgia Such wow Beh tiro Adesso che cosa Evoghiamo Il kraken Spero stiamo facendo La move Bellissimo eh Fantastico Esteticamente Perché c'ha tutti gli occhi Che si muovono Singolarmente Ma perché tra tutte Le cazzo di cose Del creato Di un figa Di Driad Fosse una donna Almeno era pure Fregna Che schifo E tu E tu Sei tu, aparte di un torturatore di lias? Più più credibile del Absolute. Ci hanno bisogno di un guide to the Tower, anche come noi. Voi pensi interacciono, e senti una voce chiamata. Il Absolute... ... o solo i echos della sua mente fracturata, reverberando in la scuola. Una vera di soli. E hai più prezziatori ogni giorno, majestà. Sì... Sì... ... ci sanno bene. Prima dimmi com'è possibile viaggiare indenni nell'oscurità. Vabbè, t'hanno fregato un'altra volta pensando che qua l'antenna è dell'assoluta, invece un cazzo. Ma andiamo. Oddio, devo seguirlo effettivamente. Io spero che quell'aria sia molto grande perché se ne ha la fine. Oh cazzo, non è grande ma come niente invece. Senti una trappola. Ma cazzo! Uh, un arpista! Figata! Se mai non voglio ucciderlo l'arpista. Asi! Cosa sta sta svilando? In gran parte. Sieg, chi è qui? Sai guardatevi? Alcone. 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 Alcone! Alcone! me ne sbattono un minghietto. Rivolta di contro la cavana, attacca il drayder. Io voglio quella l'antenna per muovermi come cazzo mi pare. Minchia quanto cazzo si muove velocemente, che cosa schifosa. Attacco d'opportunità! Cazzo l'ho missato. Ma guarda che merda! Si è cassato addosso santuario lo schifo, quindi non può essere toccato. Lo è infame forte veramente. Oh cazzo è vero, dobbiamo stare attenti perché se si allontana troppo da noi ci fa esplodere. Ma gli arpisti pure immagino che ce l'abbiano una di quelle cose, perché sennò come stavano nell'ombra? Ah perché è benedetto da Seljoon! E vabbè ma gli arpisti sono tanti. Ok figata. Io in realtà questi quattro vorrei shottarli tutti e se mi metto qua dovrei pure farcela facendo questa cosa qua. Smash! E due ce li siamo fatti. Ah no in realtà questo è ancora vivo. E allora ci spostiamo un po' qua. Facciamo incalzare così li prendiamo entrambi. Ismaida quanti HP c'hai? Quelli. Puttana. Signorino non mi pare una scelta saggia il mettere in a nube dei pugnali e poi lanciarcisi dentro. Tanto c'hai un HP. Ah cazzo è vero! Sei un mezzorco! Tu non muori subito. Ah no perché era già sopravvissuta la tempesta dei pugnali. Ecco che era. Bello come sia Shark che se liunti possono difendere dalle ombre. Allora fammi vedere perché io vorrei togliere santuario da quella merda lì ma non so come farlo onestamente. Oh ma sei venuto da mamma Carlac! Pezzo di merda. Oh tocca a doga e a Carlac! Marchio del cacciatore sullo stronzo? Minchia cammuccio di persone non vedrete mai un cazzo voi qua in mezzo. E poi si carica perché se lo colpisco gli faccio male eh. Putta madonna senza grit! 28 danni! In the face! Sì è perché santuario è proprio un incantesimo molto forte che dovessi usare un sacco di roba away per counterarlo ma stiamo tutti vicini e fatta apposta. Eh non potete attaccarlo è inutile che lo circondate. L'unica cosa... Però posso usare in calzare perché è away. Eh questo lo senti comunque stronzo eh. Se ci avessi altre cose away potrei un attimo sfruttarle. Tipo questo. Se faccio così è away. Scusate. Guardiani spirituali. Questa è away. Gale benedici il nostro gruppo anzi Carlac e Oga eppure la signorina. Ma tu lo faccio vedere io. Tu zio devi solo sperare che Carlac non ti prende perché se ti piglia Carlac ti fa male. 30% di chance di acchiapparla. E tanto io ci riprovo se fallisco non è che che cala eh. Madonna godo. Madonna cazza rola godo Dio Cristo. Col 75% dai lignaggio da Vernus. Oh la merda comunque è imprendibile. C'è qualcuno che grida aiuto dentro al ragno? Nel culo del ragno eh? Ah no perché c'è una fatina qua dentro. E tu saresti? Parla in rima non mi fido. Scaglia al suolo la lanterna e spaccala. Boom fortissimo. Beh mi serve riparo dalla maledizione se ti lascio andare mi aiuterai a attraversare le ombre? Neanche un tiro su intuizione per dire te sta fotte libera la pixie. finalmente ho stato trappato in questo coffino con nessuno ma un mage rider e mia propria compaglia. Mi ha fatto un buon turno non ti? Che bella madonna devo oltrepassare questa terra maledetta puoi aiutarmi? Sì sicuro perché non? campanella della selva affattata questa campanella decorata resa opaca dal tempo tintinna una risatina maliziosa del tutto simile a quella della pixie che l'ha incantata ah ok cioè adesso possiamo andarcene proprio a fanculo ok in giro madonna maddio cristo figata però che bello vedi questa è una cosa che inserimento ti fa venire la caga ma che poi ti danno sto power up e poi esplorare come cazzo ti pare playtime's over pet ah i love this time of year the dickheads start popping up wherever you look what do you want mizora drop the attitude and perk up your ears you've got a new mission absolute's cult has gone and grabbed one of zariel's assets a devil and a powerful one at that they're locked up in the cult's fortress moonrise towers and you're getting out valus è fatto molto di visione veramente veramente bellino se questa creatura diabolica è così potente come ha fatto a farsi catturare well your playmates wasting precious time let's see about getting her priorities fixed ahem clause z section 13 should promise soul refuse abeyance or neglect duty the pactholder shall cast the promised into avernus as a lemur i'll make it simple will fails or refuses and he turns to a thick blob of stink flesh and sinks to avernus now be a good boy and play fetch pop or you'll spend an eternity sizzling in the hells mizora's words may be flippant but they are tinged with desperation she cannot afford for will to fail this mission this may be your best chance to negotiate will out of his pact ok salveremo la tua risorsa ma una condizione oh and what condition is that your mind links with will drawn in by his increasing panic what are you doing rispondi a will nella tua mente fidati di me salveremo questa risorsa se riberai will dal suo patto mizora perché ti serve qualcuno che ti va a fare il lavoro sporco e l'unica persona così matta in culo di andarsi ad infilare in mezzo a un gigantesco dungeon pieno dei cultisti dell'assoluto e probabilmente l'assoluto stesso con tutti e tre i suoi bei figli al prodigo siamo noi direi in roleplay però non ci sta questo con calma e sangue freddo intimidire storia intrattenere io andrei di intrimidire potremo sempre lasciare che il tuo culto infetti questa risorsa scommetto che sarebbe fedele nella schiavitù l'assoluto 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 che bella mizora come personaggio però mi intriga veramente tanto peccato che non puoi fare qualsiasi altro personaggio come patrona lei è la madonna dei dialoghi che ci parliamo con nostra moglie dopo tutto quello che Will ha sacrificato per salvarti è ora di ricambiare il favore no l'idea di chi sia questa risorsa che deve essere liberata non un tutto che importa è che liberiamo e ho fatto un blocco chiamano le demone su front line della spada e significa tutto per me ho sempre conosciuto il mio futuro e so che ho preso bene grazie per mettere il tuo cuore per me lo ma non non celebrato fino che sono libero posso sentirmi la mazora schermando la plot non mi mi non una fossa mi anche perché quell'occhio lì è palesemente una sandstone quindi ci sta sentendo qualsiasi cosa che diciamo per chi non lo sa se una sandstone è letteralmente un sassolino e farlo diventare tipo una sorta di chiamatelo microfono telecamera no e quell'occhio di pietra lì me sa tanto d'oggetto gusamizora per sapere quando fa le cose è infernale sì posso leggerla se ti giri Ma ti stava usato per fare una sorta di rituale, perché se parte di una roba più grande, in infernale, stava a fare una sorta di rituale particolare usando Astarion, tipo. Questa di un chilo di gondola narrazione, che di una bacchetta assai piccola aveva la maledizione. Ma che cazzo? Qualcosa riguardo ai fuochi degli inferi, sono solo frammenti di legalisi infernale. Dovremmo dirlo agli altri, potrebbero essere in grado di aiutarti. Se questa scheda fa parte di un contratto, dov'è il resto? Ma che cazzo avrebbe offerto a Cazador? Ha avuto... Cazzo, potere, controllo... Che più potessi vogliare? Grazie. Poi, questo è... Beh... È qualcosa. Che tra l'altro è roba furba, metterlo sulla schiena di un vampiro, perché così non lo può leggere e non si può neanche riflettere in uno specchio per leggerlo. Greve. Vabbè, lo scopriremo, è una promessa. Comunque Oga se la vogliono bombare tutti. Tutti! Ma non c'è una persona salva. Oh, un'orchidea notturna! Shadowheart! Eh, esatto, ti ricordi quando mi hai detto che l'orchidea notturna è il tuo fiore preferito? Ti dai il caso che ne abbia uno proprio qui? Oh, hells. Tu non hai preso questo con la mano, ti? Sono morti e poesoni! Chiarando! Sono sicuri. E bellissimi. Grazie. Non ho nulla da dare a te in ritorno, mi freddo. Ma basta con questa cosa! Ma ti ho regalato l'idolo del char e te devo da qualcosa in casa. Cioè, se vogliamo limonare, limoniamo! Ti sto facendo un regalo, figa di Dio! Non mi aspetto nulla in campo. Beh, potremmo potrei venire con qualcosa dopo. Allo stesso. E spezza in due Karlak, io te lo dico. Non credo che Karlak sia molto aperta al poliamoroso. Però... Oh, guardala che bella che è in una gigantesca bolla! Perché quella sicuramente è Selune! Uh! Aspetta! È uno Shadow Kai! Mi pare che c'è proprio una razza, no? Sono quei tutti i tizi bianchi, i capelli bianchi, che c'hanno tipo varie anime dentro. Dio, mo' non me li ricordo! Figata! Altro con un corvo bianco! È raro incontrare qualcun altro che sa comunicare coi morti! Guarda, se c'è una cosa mi fate incazzare quando fate ste minacce! Però è una cosa che dovrebbero aggiungere in questi dialoghi con gli animali e che quando devi cominciare a parlare un animal ti dovrebbero fare tipo reazione la cosa del berti la pozione. Cioè tu dici qua te la vuoi bere la pozione per capire che cazzo sta di st'animale perché sennò ogni volta tu devi tenertene sempre una pronta per farti un cicchetto rapido. Cercherò sempre la giustizia per chi ha ricevuto un torto. Then you and I were fated to meet. This woman tended a bar where she took her patrons, her friends into her confidence. Promised their secrets were safe with her. Yet she turned their words into knives and stabbed them in the back. They died because of her and to this day her victims lie unavenged. Madonna che figata! Ho detto proprio adesso perché è uno Shad Arcaio come cazzo si chiamano che è un agglomerato di anime che hanno dei rimpianti. Sto tizio è l'agglomerato di anime delle persone che questo ha tradito. Madonna che figa come cosa! Allora saremo noi a vendicarci per conto loro. You see it as I do. I seek a record of this one's crimes written in her own hand. Through it I can summon her spirit and force her to face trial for her crime. Sembra una magia potente. Come fai? Puoi mostrarmelo? Such spells are ancient secrets and closely guarded. But I could be convinced to share them with an ally. Your soul sparks with justice. With fortitude. This is your chance to bring a murderer to justice. To avenge her victims. Will you take it? Ma sti cazzi di Leizello onestamente doveva essere morta da tempo quella signorina. Onesto. Poi dici perché siamo ancora qua. Il flutto è forte qui. Siamo più forti. Non so quanto più l'ho potuto resistere. Ma è buono vedere che stai facendo progressi. Premo F10 per farvela vedere Fuskina. È un'altra inquadratura bellissima. Sono proprio fighe. Ma perché tu sei con la lingerie dell'accesso anticipato? Cazzo stavi sempre in armatura ma è arrivata con la sottana? Ho fatto quello che ho potuto ma non sono convinta che sopravviveranno da soli. Non sei così difficile per te. Non è la tua fault che il mondo è freddo. C'è qualcosa che posso fare per aiutarti? E cosa vuole da te l'assoluto? Io sono l'unica che può resistere l'influenza dell'absoluto. Perchè, è la fear di me. È la desperazione. L'unico, questo significa anche che è dedicato più e più risultati alla mia ricordazione. la mia ricordazione è molto più grande. Ma siamo tutti che si tratta tra la victoria per l'absoluto e la libertà per tutti. Questo non è solo per te e io. È diventato molto più grande da noi. tutto sto tempo, sto casino dei dialoghi perché volevo tocchicciare il corvo perché sicuramente è un'imboscata. Palla del fuoco? No, qualcosa di meglio. Quanta vita c'è? Ah, ma c'hanno un HP questi stronzi. Madonna, ma hanno fatto pieno infarto. Dio Cristo. No, no, dovete resistere tutti. Fina Shadowheart. Si usa l'incantesimo più bello del creato. Guardiani spirituali. Cacci mia, che tocco. Porca puttana. Io che non mi metto le mani in culo, Dio Cristo. Stay together. Keep to the light. Stop! Who's there? Allora, ma che sono belle ste cutscene. Mi chiamo Oga la domanda e chi siete voi? First, come closer. Hands up. Jonas, move in! Un'ombra! I'm here! Where are you? Jonas? Can you see our torches? I can't see anything. Something's wrong. Follow my voice. Come back to the light. Who's there? Come back to the light. Come back. Ma poi tu mi dici perché questo cazzo di gioco deve essere il Goti Bellissima come introduzione alla zona Ma anche sta cosa ve la metto sempre a schermo intero Perché posso togliere sta roba Ma che cazzo di bella è Io la metto come wallpaper sta roba Figata Dio Cristo Ha fatto quella che l'ha rapito Era un'ombra Era un'ombra Che bello La sua anima Consumata dall'oscurità Non è un buon segno Come l'hanno rete Anche perché non era per niente Una cosa facile da rendere Non era per niente ragazzi Allora Misty step qua Quanta vita avete? 31 Questo fa da 8 a 48 Che vanno in realtà 24 Però vabbè sti cavoli Così li fulminiamo un po' tutti Micchia quasi non hai dei ghierici o dei danni radianti So grevi eh Punizione divina Vai Garlak Bravissima Madonna best waifu Poi ti avvicini qua Con passo velato sempre In calzare Dovresti prenderli entrambi Uno l'hai shottato Perfetto Allora anche tu Oga Misty step in mezzo Alla baldogias Smaita Crittaglielo pure Pure su questo Questi voglio salvarli A tutti i costi Cazzo è morta Una di loro Bella sta cosa Che se ne ritorna Nell'ombra Eh sono tutte nascoste In realtà Effettivamente Fammi provare sta cazzata Posso accendere le torce Perché il fatto che questi Se voi li mettete su una fiamma Una luce Ovviamente Si vedono Quindi se io prendo questa torcia Ah non la posso tirare ancora Vaffanculo Però posso andarci a piedi Facciamo morire Gale ragazzi Questa è conoscenza Di D&D Essenzialmente Vai a salvare Gale Che muore come uno stronzo Se no Secondo attacco Bravissimo Tira sta torcia Qua sopra Perché ti sei preso Dei danni da fuoco Ti hai sbattuto la torcia Sulle gengive da solo Senza accorgersene Non ho capito L'ha fatto come In Toy Story T'ha scritto tipo Andy Sulla schiena Però in Infernage Ha scritto Casador Mortissimo Potrei conoscere Qualche entità Che potrebbe essere Di aiuto Mettiamola così Ma che cazzo Ti sei fumato L'erba pipa Ma secondo te Noi andiamo Dandiavolo Metti caso Che entriamo A casa sua E se sa Come usciamo Sani Tutti Secondo te Lui ti dice Una cosa Che vuoi sapere Senza che Ti incula In qualche modo Cioè che ti dice Guarda Mi devi dare La tua anima Di certo Vorrà qualcosa In cambio Sei certo Di poter Pagare il suo prezzo Beh Non lo sappiamo Sennò che ci chiediamo Ora Sennò Non lo sappiamo Infatti Lui viene E va In suo Il suo Schedule Quindi Tuttavia Sennò che Per alcuni Sulfurus O Il sonno Di Poetria Inoltre Credo Spendere Il tempo Studiando L'arte Di Inferno Negotiazioni Tra l'altro Lui effettivamente A Baldur's Gate E mica era L'ultimo Degli stronzi Era un signorino Che gestiva delle robe Interessanti Quindi intelligente Andiamo alla taverna Ma tra l'altro È una chierica Di Selun greve Cioè ha preso La taverna Tanto speriamo Che stanno qua I Tifling You there Step forward And keep your hands Off your weapons Easy She's with me Come Jahira Oh ho ho Questo qui ragazzi Per chi non sa È un personaggio Giocante Non Che sta anche In Baldur's Gate 1 e 2 Questo è un personaggio Me coglioni Che in Baldur's Gate 1 e 2 Ha fatto delle robe Me coglioni Cioè questo è uno Degli eroi Di Baldur's Gate Perché l'ha salvata Diciamo che Baldur's Gate Avrete capito ormai Che non è propriamente La città più bella Del pianeta Dove abitare Solo per una volta Mi piacerebbe Che qualcuno Si limitasse a dirmi salve Hello Puttana Scusate È rimasta Una vaccona Come nell'originale Un vaccone Simpaticissima Bellissima Ho salvato i tuoi soldati E questo è il ringraziamento Che ricevo Eh sei furba È furba Usa un parassita Per controllare Se ci stanno altre anime pure Però Il fatto è che Lei ha un filtro sbagliato Perché tutte le anime pure Sono mezze controllate Schizzate e compagnia Noi abbiamo qualcosa Che ci filtra Guarda gli arpisti Che hai salvato Stop What are you doing? She's the one who saved us She's the one who protected the Emerald Grove Yep Didn't leave a goblin standing Not so bad to hang around with either Save two of my friends One from a harpy And one from a mad druid with a snake Didn't make a fuss of our thieving either I'd pretty much trust her with my life A true soul with a mind of her own How is that possible? Abbiamo sì La D block Dell'assoluta noi Beh grazie a questo artefatto Mostro la Geira Gli abbiamo appena fatto esplodere L'unica cosa con cui poteva un attimo identificare Un'anima pura È veramente nucleare sto cazzo di robettino Però figata Quindi vuol dire che se c'è sta Maul qua Ci stanno anche gli altri Diffling Possiamo riparare veramente già da adesso Il motore a Karlak Racconta già tutto quello che sai sull'artefatto Raccontiamogli quello che sappiamo Alla fine Lei comunque anche di ambientazione raga Non è che è l'ultimo stronzo È come se venissero a Dive Lo conosci Churchill C'è un eroe Se conosce all'interno dei Forgotten Reams Quindi gliele dico le cose Per distruggere l'assoluta nella sua Tana La torre dell'alba lunare Mi ricordo di te dal boschetto dei druidi Ora sei pronto a rivelare i tuoi segretti Ci faccio delle costolette con te Per quanto Cristo è vero Ma tu hai una razza rara Sei un attentico bue di fiume della schiena rossa Ti chiedevo più per esplicarti No vorrei andare sulla persuasione Oh andiamo Adesso hai stuzzicato la mia curiosità Peccato che io sono una cazzo di bestia Nel persuadere le persone Come close Your mind to mine Are you satisfied? Figlio di puttana sei collegato a Baal Sei collegato a Baal Dio degli omicidi e cazzi e mazi Baal è il dio degli omicidi Degli ammazzamenti del sangue Quella a cui sei collegato Nel primo o nel secondo Baldur's Gate Ma scusa ma è un bue Che sta facendo La pulsazione oscura Quelli erano i pensieri Meno bovini che abbia mai visto Che cazzo sei? Keep quiet And you won't have to find out Palesemente un servitore di Baal Che si è trasformato in bue Però perché sta seguendo sta compagna? Perché vuole arrivare lui stesso A Baldur's Gate per far qualcosa? Però c'è che è? Sta a spiare qualcuno di importante All'interno del gruppo dei Tifling Chi ci sta nel gruppo dei Tifling di importante? Qualunque cosa tu sia Ora basta nascondersi Esci allo scoperto Sei un'amalgama Cioè qua viene definita Milma Ma credo sia un'amalgama 163 HP Ah madonna Cappello dell'acutezza al fuoco Ogni volta che infiggi la mia fuoco Ottieni acutezza arcana A nero del dono del muta forma Mentre sei trasformato camuffato Ottieni un bonus a 1 di 4 Tutte le prove di cara Ma che cazzo dici? Questo per un ladro che C'ha la roba per travestire Tanta tanta roba C'hanno delle reazioni i bue Poi dice perché tu adori Baldur's Gate Cioè dici vabbè vediamo se gli altri Cazzo di bue hanno avuto delle reazioni Perché gli abbiamo ucciso il compagno Cazzo sì Che intendi con ingenuità Ehm... tu non vuoi metterti al posto dell'assoluta vero? Ehm... tu non vuoi metterti al posto dell'assoluta vero? Beh dovremmo distruggere il culto E mettere fine alla sua malvagità per sempre Cazzo di cazzo di cazzo Vuoi che te taglio la testa e la metto su una picca adesso? O tra qualche live? Un potere malvagio che non lo farò Sì, e controlla pure tutti gli altri No Non so se l'hai capito Che io ti stacco i cannini e li uso come orecchini No, perché è tanto Dipende dal tipo di personaggio che ruoli Cioè Oga questa roba ti dice Ti spezzo le tibie se provi a farle E basta, è quello Andiamo giusto a parlare con Carla Che se ha qualcosa da dire Che dopo che non parliamo con la nostra guascona Abbiamo dell'altro metallo infernale Che ne facciamo? Ma do, quanta gente Aspetta, signori Lei è un mercante Ma io devo cercare Quello stronzo di Damon Devo curare la mia Carlac Dove cazzo è? Dove sei? Allora, nella taverna non credo ci starà il signorino Forse è di qua Dove? Dove l'hai visto? Eccolo il figlio di puttana L'ha visto? Carlac subito l'ha puntato Quale vuoi sentire per prima, Carlac? The good news, obviously I only need one more piece of infernal iron to craft an insulating chamber that can make it possible for Carlac to... Touch people Exactly Oh my god It's really happening It's been so long We've got the iron Let's do this thing Hang on I think you'll want to hear the bad news too Yeah, sure But first Fix me Please Non può rimanere su sto piano, vero? Guarda, mi è da piante, prego Non me lo di Mi stanno già uscire le lacrime davvero Guarda, dimmi piuttosto Che cazzo ne so Che dobbiamo trovargli un cuore per fargli un trapianto Però non mi di Che sì Può toccare persone Ma non può rimanere perché a un certo punto esplode Perché l'ho vista che se stava già un attimo a riscaldare di nuovo Lasciamo parlare Dammon Sembra una cosa importante Fine Well, go on then I don't enjoy saying this, Carlac But there's no two ways about it Your engine is going to blow and I can't fix it I'm not sure anyone can It's simply too hot to exist here in the material plane Unless you return to Avernus For good This thing is going to blow Sooner rather than later But But still you can give me something that will let me touch again, right? Safely Yes, but That's all I need to know Do it Please Che cazzo però Ma poi scusa ma in un mondo dove tutto è possibile La gente ritorna in vita dopo mille anni E con mania non possiamo trovargli un modo per sto cazzo de cuore Vado a fare il patto con Raffael Io te lo dico Io l'unico patto che stringo con Raffael Gli vendo la figa di anima È per ridare il cuore a Carlac Se può fa Datemi sto spoiler Se può fa sta cosa Perché mi dà il cazzo Questa roba veramente puoi sistemarla In 27 modi puoi sistemarla No no sì E il mister quando gli pare Solo per dare delle brutte notizie Dio madonna Perché veramente Allora a sto punto io dicevo Carlac ho una soluzione La decapitavo Polverizzavo il corpo Brutta vedesse La decapitavo Polverizzavo il corpo Gli facevo un true resurrection Che ripristina a qualsiasi parte mancante del corpo Patto Perdonate perché mi dispiace Poi guarda quel musino Dai il pezzo di ferro Buttiamoci alle spalle Questo problema Well All right This shouldn't take long Same as last time You'll need to install it yourself This should do the trick Posa una mano su di lei Abbracciala Baciala O resta immobile Abbracciala Perché il bacio L'abbiamo già fatto Io voglio abbracciarla Semplicemente perché Parla sempre Desta cosa Dice all'orsacchiotto Il toccare le persone Quindi abbraccia Carla Che porca puttana Grazie Possiamo andare a bed ora? Proviamo a rendere evitabile Inevitabile allora Che depressione Dio Cristo però Sono così felice per te Felice per noi Se devo essere onesta Mi piace come Carlack Cerca sempre di mettere Dolciotta Stupidotta Poi gli parte proprio Il neurone che dice Trombare C'è fortissimo Non c'è una via di mezzo Allora Per adesso Cioè godiamoci il momento Non stiamo subito a pensare Che deve morire Come una stronza Povera Non vedo l'ora Che arrivi questa notte Distruggerò a me Più forte che posso Vabbè ci sta Sono dieci anni Che non tocca a una persona Lo sai che c'è? Io La mia cazzo di waifu Non la faccio attendere Andiamo A fare le cosacce Sperando che non siano Troppo osacce Devo mettere fuori Il combattimento Gli altri Per farli addormentare In fretta Tu mortacci tua Tu Namo Ah io spero che non si saltano Addosso pesantemente Perché se no ci buttano Veramente Che cazzo vuoi a Starion Tu Ma vattene a fanculo Ti faccio alla griglia Su Carlack Vai a cagare No Niet Nisba Nada Fanculo Andiamo a dormire Spero che non sia Troppo greve Se no veramente Ci bloccano tutto Che cazzo ti faccio Di presentarti È arrivato proprio Ciao Io mi chiamo Carlack Credimi So badare a me stessa E a te Carlack Veramente mi prende Mi sbatte Per terra Mi devasta Mi deflagra Il culo Non male che sono abbastanza alto Va avanti Say it loud I'm yours Carlack Aia Qua è chi Dobbiamo veramente vedere Chi fa il top E chi fa il bottom No no Prima tu I'm yours Completely Cioè non so se state capendo Che cazzo sta succedendo Si sta illuminando di azzurro Perché si sta a scallare Per chi non sapesse la base Della fisica No Della vita Più una fiamma è calda Più cambia colore Cioè tecnicamente il giallo Sta sotto all'azzurro Cioè si sta proprio a scallare Per essere De dialetto Pensavo che non me l'avresti mai chiesto Madonna che bella con gli occhi azzurri Ecco qua Eccolo che bella con gli occhi azzurri Eccolo che bella con gli occhi azzurri Eccolo che bella con gli occhi azzurri Da quando è che c'ho il birillo? Devo fare un check Ma per che cazzo mi ha morso a Starion stanotte? Ma tu che cazzo vuoi? Ma tipo io faccio le cose con Carla che mi viene a morde Ma te smaito sulla testa La coda è a quanto pare veramente D&D Bellissima però come scena Per niente volgare Mi è piaciuto veramente tanto Per niente volgare Ti fa vedere il mood dei personaggi Perché Carla che appunto è il Il barbara Bella tic Che cerca un attimo di sottomettere Tipo figa figa Cioè questa qui È stata una bella scena Di cosa Cioè non come quella di Dragon Age Origins Che c'è stanno sti Meme Dei tizi palestrati no Io non la potrò mai uccidere Come faccio ad ammazzare Allora vedete perché mi incazzo poi Perché non la possiamo salvare Dio Cristo E che hanno creato uno dei personaggi Più belli del gioco E gli danno Io spero che ci sia una roba Tipo Che cazzo ne so Fa il patto con Io sto veramente prendendo in conto Il patto con Raffael Cioè se mi dice Mi vendi l'anima E salvo Carlac Porca puttana Prima sistemo Baldur's Gate Salviamo Baldur's Gate Alla fine quella cazzo di anima Gliela do Gliela do quella cazzo di anima No la scorsa noto Ho sognato un'uccellina Che mi cantichiava E guarda Eccola lì Ho adorato poterti toccare ieri sera Stringerti Baciarti E tutto quanto Che belle ste frasi Sì Sì Dav è un adolescente Carlac Ma perché se uno ci pensa Io non so Quando è stata venduta Ma Carlac Ha combattuto nella guerra infernale Per dieci anni Quindi C'è tutta quella fetta Di sentimenti lì Non l'ha Per niente Vissuta Beh direi che Piacere è persino Riduttivo Beh se i nostri risultati Sono indicativi Ci sono molti Disassi Nel nostro futuro Ma li affronteremo insieme Non ti amo O ci sta Oh io Ti amo Puttana miseria Sono ancora più depresso di prima Sono ancora più depresso di prima Poi abbiamo come lo Lo caccia fuori Perché ce l'aveva in canna Da chissà quanto Cucciolina Ah bene andiamo Bisogna tornare seri Ci siamo fatti la trombata Abbiamo fatto tutte le cosacce E adesso Si torna Nella depressione Di D&D Entriamo nella taverna Vediamo chi ci sta dentro Di interessante Dai Ah c'è Mattis Quello che ci aveva provato a fregare Oh c'è Alfira Bellina Ciao Tu c'hai qualcosa Che vendi Veramente di utile adesso Welcome to our humble Wait Are you Karlak? A lot of us were in Avernus We saw you fighting You were so good Well I uh Yeah I guess I was I mean You should avoid fighting for devils If you can But if you can't It helps to have a good right hook I saw you lay out a Mordemon In two hits Bam Bam We were all like Whoa How'd you learn to fight like that? Hm Had to Life didn't pull any punches It was up to me To learn to take a hit And deal one back I've been tossed around a lot too I want to learn how to fight back too From the look of things You've got your wits about you A clever mind And a bit of style Will take you a long way Fight with those And you may find You never need to use your fists at all In that case Want to buy a lucky ring I found? Ah Nice try shorty Keep it up though And you'll be scamming with the greats In no time Oh Attenzione che Karlak Ha cacciato un paio de perlette Semplici E niente di alto locato Bellissimo però Ste cose che si dicono Collegano Chissà se noi fossimo andati Prima di entrare nel grove A prendere Karlak E poi dentro L'avrebbero già riconosciuta Molti dei tifling Perché questa è effettivamente Una cosa che non ho mai provato a fare Perché sai no La prima cosa che tu fai Entri dentro Per vendere la roba E compagnia Figata Quei ragazzino ti ammira davvero È stato un siparietto carino Eh Karlak si sarà una brava mamma Hai qualche rifornimento per un cliente più che speciale come me Allora proviamo a persuaderlo Se valesse qualcosa pensi che mo l'avrebbe data a te Perché tanto sicuro mi chiede uno sproppo di soldi sto bambino Perché sono dei ladri Cioè quindi Vabbè no intimidire no È un bambino Dio Cristo E Maol sa che sarà più al sicuro con me E lo sai anche tu Ma no Ma non fare così Ma hai fatto Sono un figlio di puttana ragazzi Sono un bestio di merda Ma c'è Raffael Sta giocando a scacchi con Maol Maol Che stronzetta, che tra l'altro molti non lo capiscono, ma Maul è una donna, è una ragazzina, non è un maschietto. Se pingi accidentalmente la scacchiera verso Maul, penso sia per fregarlo. Eh, ma non so. Che culo! Come's that for Callumsham rules? Brava, lovely work. I see I was right to make you the offer I did. You will consider it, won't you? What a lovely specimen she is. A blushing apple begging to be plucked. Please let me smack this creep. She cheated of course. But that's half her charm. Ma stai a cercare di fregare una bambina in un patto con un diavolo. Che cazzo poi vuole da Maul? Perché stando a Baldur's Gate, che ne so, ha visto che creerà veramente una gilda dell'adri importante. Che cazzo ne so. Ovvio che sì, è un diavolo, capito. Capito essere figli di puttana, ma fino a certo punto. E perché non porti di nuovo le tue chiappe negli inferi? Hell is wherever I take it. I just call it hope. Remember? But don't you worry about Maul. It goes without saying. She still has the unconditional freedom to choose the only option she has left. Now, let's talk about you. I sense there's something you want to ask me. I do. I have a... Proposal. If you're hoping to taste my blood, little Vampling, think again. It burns hotter than Wyvern Whiskey. This is serious business. Devil. My old... A long time ago, someone carved infernal ruins into my back. They're a fragment of a contract. I'd like to know what the full contract says. Io veramente spero con tutto me stesso. Io l'unico motivo per cui non gli staccherei la capoccia è per salvagarla. Però io spero che ci sia una boss fight con tre perché non vedo l'ora di smaitarti su quel sorrisetto di merda. Non vedo l'ora di farti 60 danni radianti sui denti che diventano 120 perché sei un diavolo di merda. Non vedo l'ora. Già l'assaporo quel momento in cui la lama di yoga qua, qua sui denti se la trova. Niente, giochetti, Rafael. Aiutalo. Oh, such impatience. It's something very important to your master. But is it a love letter, a warning, or a deed of ownership? I could give you all the gory details. But of course, you'll have to do something for me first. Let me think about it and get back to you. You'll get back to me. This is important, devil. When? Don't worry, I'm motivated to help you. Scars often tell such wonderful stories. I think yours might be truly exquisite. I'll see you soon. Ma scusa, già Aira non ha detto niente che ci aveva un fottuto diavolo dietro. Come ho detto una volta scorsa, c'è in realtà Starion sulla schiena. C'ha scritto tipo Andy con i giocattoli. C'ha scritto Casador in infernale fortissimo. Madonna, spec... Ma me ne frega... Ma poi c'è anche 2000 HP. Sarà sicuramente narsi qualche cazzo. Sarà un diavolo puro, boh. Però Madonna se lo voglio ammazzare di botte. Dio Cristo, gli stacco i canini. C'è un gatto. Voglio parlare col gatto. Bona. Sua maestà. Che cazzo di nome. Come chiamiamo il nostro gatto? Her Majesty. Ma non è un gatto. E perché ti scaldi tanto? No, aspetta! Hanno fatto una città divinity. Dio Cristo, come si chiama? Lothar. Porca troia. Vabbè, avete capito. È quel personaggio che si trasforma in un gatto bianco che ti fa hiss hiss. Le mie intenzioni sono buone. Volevo solo mirarti da vicino. Mmm. I love it. Smite sul gatto. Anzi, se ce l'ho, un datonante per fare una shit. POM! Fortissimo. C'è un'altra bottola di Arabellan Dry back there. Purtroppo sul bar. Purtroppo, e poi, p***o e lasciami soli. Jahira ha detto che dovremmo servire i drink, ma che non dovremmo servire i drunks. Jahira non salvava il tuo raggede little tale da i cultisti. Io l'ho. Ma oddio, mi sa che gli sono morti i compagni perché non stanno qua con lui. No, dai, che tristezza. Che cazzo sta accadendo dal soffitto? Pulite, Dio Cristo. Hai salvato la ragazzina? Sembra che ti meriti qualcosa da bere. Cosa c'è che non va? Posso dare una mano? Oh, p***o. Sono solo qui perché ti aiutti a me e a mia famiglia. Io ero pronti per partire e rinforzare al grove, ma tu avevi altre idee. Carl e Leo sono stati preso per il tuo c***o. Tu convinti loro di giocare l'hero. E ora sono morti. Hai idea di dove siano? Sì, sono morti per tutto, o in una torre culta con gli altri che sono stati preso. Se sono vivi, li salverò. Sono mia responsabilità. Sì, vai a salvare il mondo. O il tuo c***o. O quale sia che faccio. Sì, come l'altra volta che Alfa Lowe sparava i coriandoli magici. Ma vattene a fa' culo. Minchia perché quasi erano mesi a infiltrati gli sciariti e stavano a fare delle porchettonate. Aie. Ciao, Mirkon. Ma c'è da qualche parte... E mi sa che è quella. Isobel, servitrice di senone di livello C. Sì, è lei. Non può essere paralizzata, accecata o avvelenata. Perché si casta automaticamente addosso e ristorare inferiore. Oh oh oh. È lei che fa tutta sta roba. Figata. Però, zia, non stare sul balcone come una stronza. Perché se arriva uno sciarito, te cecchina da 7 km e moriamo tutti come degli stronzi. Cioè, nel senso. Qua c'è di nuovo Maul. Maul, tu che stavi facendo con Raffael? Tu devi credere in te stessa, Maul. Non alle promesse vuote di un mostro dalla lingua biforcutta. Zevlor ha una credenza. Non mi è venuta a trovare qualcosa di buono. Inoltre, Raffael non ha promisato qualcosa stupido. Proteggazione per me e i miei figli, è tutto. Il suo sorriso è broad, i miei occhi si trattano. Il suo viso è la vera immagine di innocenza. È chiaramente menta. Ti è morto anche Zevlor. Ma non credo stanno alla torre, dai. Raffael è pericoloso, Maul. Cosa ti ha offerto davvero? Eeeh. E ho capito, chi cazzo sto convincendo? Gwyn. Dio madonna. Cazzo, ma sono curioso. C'è, spreco tutte le cose, tutte le competenze, la come si chiamano, i ritiri. Minchia. Cazzo, ma 20 vuol dire che è veramente greve. A meno che forse non gli vuole riportare in vita i genitori. C'è quello che ho detto, ma mi e la mia squadra sicuramente a Baldur's Gate. E anche, quando arriviamo là, io sarei head of the Thief's Guild. Ah, non è che tu vuoi forgiare la tua... Guardate pure Shadowheart che la guarda con questa faccia. Non è che vuoi forgiare la tua nuova gilda. È che ti metterà a capo della gilda dei ladri di Baldur's Gate, che greve. Fidati, può sembrare bello, ma non ne vale la pena. No, no. E mica è bella però Maul, eh. Cioè, è piccolina ma in realtà fa dei ragionamenti molto molto bellini. Eh, diciamo che sì, vista da fuori, come ha appena detto Karlak, Kyle, è una cosa che tu dici, ma che cazzo stai a fare? Però lei giustamente è una bambina, sta in questa situazione del merda, dice, piuttosto che morì tutti quanti come degli stronzi, pur di salvarli magari vendo la mia anima. Cioè, figa come cosa, eh. E ci riuscirà, intelligente, spaventosamente intelligente. Ce la porteremo, è nostra figlia ormai. Tanto siamo anche due tifling, quindi è perfetto. Alfira, tu? Vedo dei visi familiari, ma dove sono tutti gli altri? Ma che cazzo dio? Cristo. Minchia, pure Astaire non sta tipo, oddio! Cioè, quindi, per farvi capire. Però potrebbe essere vivi, perché se ne hanno presi i cultisti, hanno detto, vabbè, altra gente da trasformare in sottomessi e cazzi e mazzivari. Quindi potrebbero essere vivi, spaventosamente vicini a diventare dei mindflayer. Ma dettaglio. Giuramento di vendetta. Farò tutto ciò che è il mio potere per salvarli. Hai la mia più solenne promessa. Questa mi sa che è una roba veramente di giuramento. Cioè, che se non lo fai, ti spezza il giuramento. Vendetta vera a un figlio in galera. Andiamo con Alcimio, che voglio un attimo capire, perché lui sa dessa zona dove stiamo. Perché penso, tra l'altro, che ci sia una questa anche per togliere sta merda da sta zona. Perché questa comunque muo... Noi perché ci dobbiamo passare attraverso per i cazzi nostri per andare alla torre. Ma questa è una roba che se tu lasci nella zona, è greve, eh. Cioè, non è una cazzata. È greve, porca puttana. Siamo nel bel mezzo della maledizione dell'ombra ora. C'è qualcosa in più che sai dirmi su come spezzarla? Questa terra è più che solo soglia e roccia, roccia e roccia. È un figlio vivente. In forma di un figlio feo, con il foro stesso in gli occhi. Il suo nome è Daniel. L'ho conosciuto in miei meditazioni. Ma da che la cursa si è rinunciata, non ho sentito la sua presenza. E che dovrei cercare esattamente? Non posso essere esattamente esattamente. Il tempo e la cursa di scuola non avrebbero stati fatti a alcuni tracce che avrebbero lasciato. Un figlio vivente è sicuramente, lo avrò. Ma forse sarà un figlio vivente. O qualche ecco di ricordo di ciò che ci troviamo. Non preoccupare. Se trovi qualcosa, lo sapete. Perché la volta scorsa, vi ricordate che mi ero arrampicato come minchio nella parte? C'era tipo quella sorta di nocciolo, di luce nelle radici. Non è che è quella roba davvero. Ti senti ancora a casa qui con noi? Certo, immagino che il panorama non sia altrettanto bucolico. Che bello, Alsim. E minchia, qua è subito per flertarci e andarci a letto. Vabbè, non c'è di che. Non ci sto provando io. È Alsim che ci sta provando con me. No, no, non servono parole. Capisco come ti senti. Minchia, subito per andare nei pantaloni del druido Deddy. Ma che cazzo? I think you do. Forgive me. Sometimes I forget myself. Gazing on the beauty of nature's creations. Cazzo. Boh. Che questo è letteralmente o è Maometto che va alla montagna o è la montagna che va da Maometto. Cioè io faccio no, non voglio. È lui che arriva. Secondo Alsim, se vogliamo spesare la riduzione dell'ombra, dobbiamo trovare Taniel. Lo spirito della te... Ah, ok. Non è che è un ragazzo con la foresta negli occhi. Un figa di spirito. Chiama lo spirito, Dio Cristo. Pensavo fosse un ragazzino. Immagino che parlando con lei andiamo avanti di trama, ma voglio un attimo esplorarla per bene. Tanto bella, questa è proprio una vera e propria taverna. Che bella. Eh, la Madonna che ci sarà rimbadriata. Oh, la consigliere. Minchia. Flame color. That's your name, isn't it? Art color? I'm Fistular. Fistular. No, and me, uh, climb... Il mio amico Alzi mi ha menzionato il nome Taniel. Elfo Bastardo, dove stai? Daddy Coon. Dov'è? Yes. C'è un pugno fermato all'ultima luce. Primo di senso è causa della maledizione, ma borbotta qualcosa riguardo al ragazzo di nome Taniel. Ma perché non posso averlo in parte, Dio Madonna? Devo veramente dirgli, bro, vieni con noi. Ci sta da andare. Para, para, para. Arriva proprio così. Ma magari c'è l'amico che si chiama Taniel, perché c'è sta l'anagrafe, veramente, era il nome unico. Era il Super Rare, una volta che è preso il nome non vuoi più pigliarlo. Qualche idea? If he was able to escape the Shadowfell, then he mustn't have managed to consume his spirit. Well, not all of it anyway. We need to unlock whatever's left of him, inside his head. There must be something to trigger him. A word, a memory, an item. We just need to find it. Wait. Take this letter. It was in his pocket. He doesn't seem to have any reaction to it now, but it might help. Incarico, Art Kullag. Grato Fiamo, obiettivo ottenere informazioni sull'attività in corso delle torri dell'arba lunare nell'area circostante, dirette da Caterick Thorm, della famiglia ancestrale dei Thorm. Ora, di infissare un alloggio all'allocando dell'ultima luce e iniziare a indicare al casello d'Aziario. I rapporti parlano di corruzione, ma non abbiamo ancora ottenuto nulla che li confermi. Note, Thorm, una famiglia di questa regione, sono venenatori di vecchia data di Selun. Aia, questi uomo si sono girati greve. Ma correvoce che un encro di Shariti stia prendendo il sopravvento. Indacare e riferire. Firmato Granduca Elton. Quindi devo cercare quella roba dove stavano spippolando, essenzialmente. Sarà fatto. Signora, è da tanto che non ci vediamo. Come sta, consigliera? Non ci vediamo. Non ci vediamo. L'hovoca. Nogetano di questo tipo. Non ci vediamo. L'hovoca. Signora, lui. Il suo lavoro. L'hovoca, lui. L'hovoca. L'hovoca. Non ci vediamo ancora di lui. Non ti vedo che hai un modo in quanto in tària? L'hovoca? L'hovoca. L'hovoca che ti farà tutto ciò che puoi per liberare il Ducca. Ma in caso che non trovii un modo, io sarò inizio a Balder's Gate per chiedere la rinforzamento. Il Consiglio ha sentito un carrier pigeon con notizia che la città ha fatto affidare con l'attacca di absolutist. Il Stigl watch sta sta portando forte. Io mi chiedere che Lord Gortash sendi alcuni di loro aiuti in l'arguardo gegen il Moonrise. Il corso non farà loro. Cosa. Questo è il mio vecchio. L'hovoca che mi ha venduto a Zario. Tu sai il nome Gortash? Un Consiglio con un'influenza molto forte sulla industria e politica. Ma non è il mio padre. Eh ma perché Balder's Gate è forgiata da mercanti, eh? Per questo sono tutti i figli di puttana. E sicuro come loro, Gortash è mischiati ciaccio in mezzo a sta situazione. E come pensi di raggiungere Balder's Gate? Cosa. 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 Ma no, firma. Non posso dire, rimani qua. Stai a cuccia. Cosa. 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 Non arriveranno manco le guardie d'acciaio. Perché se questo sta con loro. Se l'intuizione non mi inganna. Lo stesso vale per me. Uomini del genere non dovrebbero avere un tale potere. No. They always seem to get it, don't they? Sì ma posso dire alla signorina di mettersi le mani in culo. Perché questa muore. Piano sopra. Perché vedo che lì i bambini si stanno ubriagando. Bravi. Bravi gucciolini. Andiamo sopra. Allora andiamo dalla signorina. A meno che non parte qualche cutscene particolare. Oh oh. Bella. La mettiamo addosso a Shadowheart. Così prende fuoco. Oh. Figa. Ecco non è che è la prescelta. È che lei prende il riflesso della luna. E lo sta incalarando. Oh. 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 Hi. Oh. So. Oh. 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 nell'estetica, avrò anche il parassita di un'anima pura, ma non ne ho la mente. La scuola di un'anima pura, avrò un'anima pura, avrò un'anima pura, avrò un'anima pura. La scuola di un'anima pura, avrò un'anima pura, avrò un'anima pura, avrò un'anima pura. La scuola di un'anima pura Minchia mi sa che è tipo un angelo oscuro perché c'ha le ali nere. Tu cosa sei? Ah, perché giustamente sono venuti qua a prenderla perché così fanno esplodere l'ultimo luogo dove... un attimo del barlume di salvezza, devo sal... Sì, questo devo ammazzarlo. Cioè, se lei muore è la fine. Tocca lei, sei morto. La scuola di un'anima pura, avrò un'anima pura, avrò un'anima pura. La scuola di un'anima pura. La scuola di un'anima pura, avrò un'anima pura, avrò un'anima pura. La scuola di un'anima pura, avrò un'anima pura. La scuola di un'anima pura, avrò un'anima pura. Ma se sono rapiti i moll. No, io vi devo ammazzare, cazzo, dovevo proteggerla. Eh, vabbè, c'ha 40 HP così, perché... perché no, no? 23 a forza. Minchia, ma questo ti prende con un colpo, ti fa uno sbrego di danni. Istinto ferale, ottene più 3 all'iniziativa, non può essere sorpreso. Devozione oscura, non può essere spaventato. Colpo critico migliorato. Ma ho capito, ma questo fa malissimo. Raga, la sciotta. Eh, aia, aspetta. Peccate sta cortellata. Cazzo l'ha passato, però si è preso 37 danni. Bezzo di merda. Sta andando bene, per quello che è. Andiamo in ira. Ovviamente. Carla, che questo tu te lo potresti fare anche con un colpo se te gira bene. Quindi vediamo che devi fare. Bravissima, bucciolona. Carica sto figlio di puttana. Pezzo di merda. Così ti impari a entrare dalla finestra come gli zingari. Ah, è vero che forse l'hai evocati lui. Vero. Oh. Ah, minchia, ma la caricano proprio. Oh. Beh, giustamente un druido. Ok. E allora sì, si carica lui. Marchio del cacciatore. Hai mai sentito queste parole? Plus ultra. E no, mi attacca prima allo stro... No, cazzo, mi ha paralizzato, figlio di puttana. Bastardo maligno. Ghul del cazzo, finisci... No, no, che cazzo fai? Ma che cazzo fai? Ma che te sei fumata? Ma sei scema. Ma io non ho parole. Ma tu sei matta. E gli è andata bene se crittava l'apriva nel culo. Micchia stava per far esplodere la taverna. Raga, ho infartato, ve lo giuro. C'ho il fiatone. Oh, Gagarlac, mi dispiace. Non se ne sono andati, purtroppo. Micchia ha fatto male, ha quasi shottato anche Oga, eh. Micchia, ma la caricano, eh. Fai un attacco con l'offend. Va bene, si è addormentato, tanto meglio. Sneak attack! Perché niente sneak attack? Cioè, l'ho addormentato di tutti e due, per carità del cielo, eh. Tanto meglio. Sotto stanno un pascià, perché tanto loro stanno a farsi i cacci loro. Che io frega. Ah, minchia, ma c'ho proprio il movimento infinito. Eeeh, ma allora. Nyeh. Ma che cazzo mi curi? Ammazza quello! Uccidilo! Comunque non fa delle scelte molto buone, possiamo dirlo, la signorina. Ah, più cazzo perché ha rischiato di far esplodere tutto Star. Cioè, si è allontanata dal tizio che gli grittava sui denti. Sì, comunque puntano tutti lei, eh. Giustamente. Vabbè, questo poi mi ha detto, guarda come vi fotto la kill, gente. Nyeh. Ah, Oga, non sei più paralizzata. Plus ultra! È invece un cazzo. Plus ultra 2! Ok, questo è andato. Isabel, are you all right? I'm fine. Marcus has been with us since the start. They've been tracking us this whole time. And that was no random attack. You were the target, Isabel. They know how important you are. But they don't know about you. Ketherick will strike again. We need you to strike first. Che vuol dire chi è Ketherick? Chi è Ketherick? General Ketherick Thorne. Remember that name? He's the leader of the absolutists. He was a Sharan once. Took to building an army of dark just this years beneath this very village. Alongside the local druids, we made it our business to see him deposed. Dead and buried. But he's returned. Not only does General Ketherick Thorne live again, it seems he is no longer mortal. He has become, in fact, invincible. A Sharan? Perhaps someone I should seek out. We met him on the road here, commanding the army of the absolute. I put an arrow through his eye myself, only to watch him pluck it out like a splinter. A man does not return from the dead and becomes impervious to arrows out of nowhere. There is magic at work. Strong. Arcane. And most likely necromantic. He healed right in front of me and chased us into the shadows. We took shelter here and were considering a full retreat. until you came along. I don't know why he's waiting. Why he's not marching his army west as we speak. But as long as he remains, there's still a chance. You are that chance. Protected by your artifact, you can infiltrate Moonrise Towers, posing as a true soul. Discover the source of his invulnerability. Make him mortal so we can make him bleed. Good luck. We are in more danger than I knew. If something happens to me, everyone in this inn is dead. Like that. Ma guarda che bella la doppietrice di Jaira. Porca troia, fantastica. Dall'ultima volta abbiamo un Oga che ha detto puttana miseria, sono un cazzo di paladino e io ho comprato una full plate. Diciamo che ho fatto shopping, min maxing e compagnia. Come vi ho detto ho cambiato la sottoclasse del Warlock e l'ho fatto diventare un patto della lama perché diciamo che con i minion non so quanto ci stava bene Oga e voglio vedere se il quinto livello del patto della lama del Warlock l'hanno reso carino. Tecnicamente in D&D quinta edizione se voi prendete a livello 5, che ne so, col barbaro, il multi-attack, bi-classate e arrivate al 5 col guerriero, quel multi-attack non ve lo dà perché l'avete già preso a quel livello con un'altra classe. Io voglio vedere se qua hanno fatto col fatto che c'è solo il livello 12 la cosa figa. Cioè voglio vedere se al quinto livello del patto della lama del Warlock quell'extra attack che mi dà me lo dà. Ho messo finalmente gli oggetti nella barra così li usiamo sti cazzo di cosi perché non li ho usati mai. No, 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 no. Cioè Quoroscu si può pure una stronza, eh. Hai messo proprio il guidino lì apposta. Porca putt... Eh, vabbè, ma vaffanculo ogni volta. Digestione esterna. Puoi divorare una creatura trattenuta che sta marinando nei tuoi succhi gastrici corrosivi. Arpista morto. Ah, ok, siete scrocchiati da questi. Fammi vedere la madonna. Siete del 75. Pure là sopra. Astarion. Riesci a shottarlo quello laggiù? Azione scatto. Non puoi avere svantaggio. Vabbè, ma tanto il crit glielo fai da solo per forza, eh. Piazzo di merda. Orca Eva. Poi con il secondo... Perché ho preso un elisir che quando uccide gli dà un'azione extra. Si chiama elisir dell'assassinio compagnia. No, esplode pure questo. Però non gli fa danni. Questi tu dovresti farteli tranquillamente con l'incalzare. L'altro l'hai missato. Sì, voi dovete semplicemente rimanere fermi fino al turno di Oga perché voi siete morti. Pure Astarion a breve. Ma basta! Eh, sta di cag... No. Eccolo. Guardiani spirituali. Di livello 4. Quindi dovremo fare un D8 extra. Attorno a noi. Corri qua. Marchiare i deboli. Contaglio. Giusto un passo di qua. Eccolo. Tocca a Carla. Allora, se cerchiamo di seccare Satana qui perché questo fa male. Madonna! E Madonna 2! Ah, cioè, perché la tattica di sto stronzo che non è riuscita mai a fare è che prima ti immobilizza poi ti sbu... ti sputa addosso della roba che ti corrode e poi ti si mangia. Cioè, fa proprio tutto il processo digestivo. Perfetto. Fotti tutto. Cancrena putrefatta. State fermi. Non continuate a... Madonna, che fastidio! Fermi! State fermi per fare una città in Dale. Non muovetevi perché sennò qualsiasi cosa fanno si vanno a infilare nei rovi e attivano le trappole e Dio Cristo. Autoimmolazione. Incendiati per ottenere calore. Calore. Questa entità inghiottita da un fuoco mendicativo subisce un D4 danni da fuoco per turno ma può usare convergenza di cal... È Inception, Dio Cristo! Che cos'è convergenza di calore? È una skill. Dio caro! Allora, c'è un bambino satanico. Andiamo in furtività. Te smaito in testa e ti faccio esplodere il culo. Quindi, vedi che devi fare? Porca madonna! Ma te stacco le corna dell'impianto in culo! È un bambino tifling che è stato tipo in parte corrotto dalle ombre perché vedo che ci hanno occhio sputtanato. Warlock arcano. Un'altra presentata è già vicino al ragazzino. Esaminano cercando di capire di che cosa si tratta. Faccio cagare in intelligenza ma almeno ci proviamo. E chi sei? Ok! E ho l'occhio dell'invisibilità mi dispiace. Scusate ho capito male io. Prova con balla di vasici sui denti a sto ragazzino di merda. Giochiamo di nuovo? Porca puttana che infarto ma ho capito ma che ansia mamma la mamma migliore di tutte la tua madre cioè letteralmente sì il papà più forte di tutti sì ma t'ho trovato scusate non ho capito se si è bagato qualcosa o se la sono gestita di merda eh sì sono stato troppo veloce visto che ho l'occhio di volo ma che cazzo è successo ma Nictus ah perché questa sarebbe stata una roba in cui spawnavano all'infinito e tu nel mentre dovevi cercarlo cioè la prima volta ti faceva per forza che non lo trovavi magari qualche cazzata però la seconda dovevi ritrovarlo mentre c'era il fight uh un anello che permette di castare passare senza traccia eh va bene stata sì speedrun fortissimo io veramente cioè c'è Oga che secondo me stava flashando con l'occhio non ci stava capendo più un cazzo minchia ma aspetta ma questa è roba da castello ah minchia perché giustamente è esplosa tutta la terra questa in realtà era tipo piccola città giustamente perché c'è la taverna e tutto il resto minchia perché questa c'era una roba con al centro le torri lunari e si vede che tanti anni fa ma tanti tanti qua stiamo a parlare la torri mi ha fatto esplode da sotto sto luogo tutta sta roba che c'è just out of here di una taravati tutta la mia tasca dio cristo mi fate venire la cazzo di ulcera è che loro hanno proprio l'algoritmo star di tracking dietro base del loro fanno la tua stessa via con un offset quindi lui ha fatto quello che ho fatto io però porca troia che cazzo è allora qua si potrebbero fare battute facili non le fate imboscata un midzol porcazzo diciamo che è smigol con il pelo cosa ha percepito un mattone movibile siamo in una cazzo di apocalisse esploso tutto tu noti un mattone che si è sposta va bene chiave del forziere del vasaio c'è sta un forziere che non sto a vedere ah eccolo forziere del vasaio tra l'altro a che cazzo serve la chiave però magari io ho una collezione di idoli nelle casse ho con questo tre idoli dei selun tre e secondo me shadow art mi impicca se li vede indagare sulla resistenza selunita tanto tempo fa c'era tutto sto mega complesso con le mura c'era una città mi coglioni e la taverna era diventata il ritrovo della resistenza selunita e tutte le altre persone infatti avevano nascosto idoli e falcetti gioielli altari che figata come cosa mentre questi ma to shadow art piglia testi cosi shadow art sono devastanti per te sti lobby sono devastanti perché globo del cazzo i bus compagnia per ogni turno che c'hanno di quella roba prendono un meno uno ai diri per colpi shadow art fa solo danni radiosi spammati fortissimo roland ma che cazzo ci fai qua siete sorpresi in merda state a cuccia e non rompete i coglioni te prego non dirmi che stavi cercando di andare alla torre dell'alba lunare stavi cercando di soccorrere la tua famiglia sei troppo duro con te stesso Roland spero per te che non muori durante il tragetto perché sennò ti prendo a cinghiate sui denti e tra l'altro furbo Torm sta usando i cadaveri dei vecchi perché questi sono semi per barricarsi c'è sta roba breve diventeranno ste radici qua no ma penso che è l'unica cosa da fare qua cioè non è un modo per passare zitto zitto e entriamo nella città oscura torgurdul andiamo in furtività veniamo sciolti no che mi immaginò che col ditino ok pensavo che si sciogliesse brutalmente sapete la scena di harry potter quando scoprono che non ci sta più la barriera che fanno la stessa cosa casello daziario gilda dei tagliapietre luna cala ma è proprio una città aspetta cosa stiamo perdendo dio cristo vabbè che siamo nella ombra più oscura cazzarola c'è un pulsante questo pulsante aprirà queste cose davvero no io nel buco di culo del mondo non ci entro ah vabbè ma ci stanno i soldi questo gli roteva il cu c'è un lingotto d'oro ha moneta d'argento moneta dell'anima calice d'oro è diventato resident evil di bot i miei occhi da elfo non vedono niente pensavo fosse una roba dove potevi accederci magari anche in un altro modo e penso semplicemente che lui qua sotto ci buttava le persone c'è un qualche modo per salire troppo alto e allora mi sa che dobbiamo accedere veramente face ah no ci sono le scale c'è il sentiero madonna che bello un po' di civiltà che ci stanno le fottute scale le vie non devo fare ogni volta il caos sento qualcuno che sta sciecherando il culo fortissimo gaff e tu 607 hp elmo di monete corazza di monete cosciale di monete le monete maledette si sono accumulate intorno alla testa di questa entità aumentando i suoi punti oh no aspetta io non so se è vera sta cosa come siamo messi siamo anche piuttosto poveri proviamo manda l'accampamento perché mi sa che sto coso più soldi abbiamo e più vita c'ha è fatto apposta che lascia le monete in giro così che ti frega poi bellissimo no no voglio parlare con lui è giallo tecnicamente non dovrebbe attaccarmi a cazzo cioè perché prima parla e poi attacca è una lei effettivamente vedevo un po' di tondaggine promemoria dell'esattore ah minchia mi sa che è diventato l'esattore delle tasse di Torm e saresti io ho appena cacciato le mie monete nell'accampamento cosa ottengo in cambio d'oro sarò onesto non ne ho più madò che bello beh lui mi sta cioè ok però sapevo dell'oro me lo rubava si sono moltiplicate come delle cazzo di mosche o sono io questo volto maledetto contro la parte delle monete che proteggono le ah cazzo devo distruggere l'oro prima perché mi sa che loro gli riportano l'oro o gli aumentano la vita beh ormai sto qua con questi facciamo sto test Karlak amore de mamma fammi capire un attimo con che cosa stiamo avendo a che fare 44 HP sono tanti allora facciamo che tu per adesso te ne vai a fanculo che ne dici un bel esiliato ne riparliamo più tardi incalzare ah ok ogni teschietto è un pezzo dell'armatura madonna gli ha tolto 100 HP e quell'altro è morto no ora si 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 avvicinatevi avvicinatevi adesso mi sembra onesta a meno che non mi fa qualche cosa che mi fa esplode con un colpo dove cazzo vai evoca lancia di monete eh dio cristo ma to ma che figa che è sta roba ma mi piace un botto questo la ruberò per una campagna è che lui fa tutte le cose con l'oro ha evocato una lancia fatta di monete ha usato i gruzzoletti che cagava in giro per fare delle mine che esploderanno a breve è una figata fa tutto con l'oro salve ok un altro è andato però secondo me c'è anche qualcosa che ti fa danno se è stronza come la sto intendo loro dicono ah ok il giocatore però si mette a prendere tutto l'oro secondo me lei c'ha là qualcosa che ti fa più danno in base al loro che c'hai perché mi sembra strano tu shadow art guardiani spirituali radiosi qua l'abbiamo presi tutti e io ho fatto sopra globo radioso che gli darà un meno uno al tiro per colpire madò madonna guarda che bella ma mi sa che era una tifling perché vedo delle cose vabbè questo è tipo un abominio ah vabbè amiche ma c'aveva proprio una volta che gli togli l'armatura c'ha 3 hp colpo di fortuna denaro insanguinato colpisce un bersaglio con avidità infliggendo 3 danni taglienti extra per ogni 300 monete d'oro voglio perché avevo fatto shopping ma se stavamo tipo la scorsa live con 10k raga mi apriva il culo sì lo so che ci sono delle targhe le ho viste le targhe ma le analizziamo perché questo è palesemente un segreto sotto a una statua se l'unita c'è sta sicuro che cosa non mi dite de no perché mi inalbero adesso non c'è un cazzo nostra non ho capito la perdita dolore la notte minchia ma questo è un coso deselun la notte il dolore sono tre cose ha sentito un click ha fatto una percezione mi sa che vanno premute in ordine ah ok devi incrociarle credo nostra signora i più dubbiosi penseranno bucio di culo io dico che ci ho pensato un minimo una barriera d'ombra però sì perché c'era la fine della parola che si doveva incrociare con le altre figata allora o è stato costruito da thorn dopo oppure magari perché giustamente sopra ci sta il tempio deselune sotto quello de sharma visto che si scannano alla sola vista non credo che penso sia una cosa più costruita dopo statua di shmatò madò ma che bella chiedini no scusate questa mesadezona per shadow art anche perché se siamo in un santuario con i controcuglioni qua si attacchi la statua immagino che ti esplodi fortissimo vabbè c'è una porta lì non è che sono incoglionito perché devi fare davanti a ogni statua per poter passare magari è qua che facevano il rituale per diventare un signorino oscuro di shar chi è dico di shar chi ne è il capo con umiltà sei saggio se shar ti ritiene tale insipiente altrimenti anche detto se shar ti dice che sei un pezzo del merda sei un pezzo del merda se ti dice che sei brava sei brava madonna pugnare il rituale di shar però qua un peccato è che visto che questa è una roba probabilmente va a queste sua cioè fammi interpellare senza che la seleziono fammi fare shadow art qua è roba tua vieni a vedere tu chierico di shar afferra il pugnale declama la saggezza di shar e ferisciti il braccio ah mi ha fatto dei doni magari è un oggetto che ci servirà più avanti può essere effettivamente ci sta quel gigantesco santuario io pensavo fosse magari qua che facevano il rituale per renderti un signorino oscuro mentre no sarà quel grande tempio dentro chissà che altro demone satanico adesso ci sarà come minimo allora visti gli scheletri impalati tipo Vlad non so quanto fidarmi salve estimò i geova se si anima una statua caccio una madonna oh giustamente c'è una statua di selun perché questa è tutta la roba passaggi segreti che hanno fatto le varie persone della resistenza questa è una trappola madonna che bella è una trappola che ti intrappolava qui e ti dava tipo fuoco o esplodevi e ho capito gesù e poi dite perché siamo ancora al secondo capitolo abbiamo trovato veramente il rifugio degli assassini c'è sta alta ir laggiù e quante ombre eh ma in realtà queste sono posizionate de merda quello è un Wraith o come cazzo si dice eh ovviamente non si veduga però questo spegne le luci e il Wraith ce lo siamo tolto dalle palle avete visto che c'è voluto tra l'altro visto che c'hai la velocità dell'alce voi adesso vi avvicinerete sicuri ah no perché questi giustamente hanno gli attacchi a distanza me l'avevo dimenticato smite guardiano della fede guardiano della fede eh questi stanno andando nelle ombre uno sta avvicinato a Starion perché è uscito dalla furtività uno sta proprio qua qua a fianco ad Astarian allora noi in realtà ci tiriamo indietro per adesso ci mettiamo qua giù zitti zitti quatti quatti tiriamoci indietro perché così esatto sta via perfetto Karlak corri un attimo qua così a Starion c'ha il vantaggio per fare esattamente Karlak io ti farei andare dentro a gamba tesa però sfruttiamo il guardiano della fede o fa l'attacca a distanza o si avvicina in realtà questa è una cosa che è perché se noi uccidiamo quegli altri due secondo me lasciano questa vestigia d'ombra che ti fa capire i rimpianti no e sono i genitori da Rabbella davvero ho incontrato un uomo che non era un uomo era stato toccato da un diavolo forse peggio mi hanno offerto qualcosa che non potevo rifiutare aiuto oh oh il momento è adesso i giustizieri e la loro roccaforte nel tempio sottostante saranno spazzati via tutti quanti non ho chiesto come voglio solo che se ne vadano non ne rimane che aspettare che gli arpisti si occupino di Keteric lo faranno fuori in breve tempo infatti scusa fammi aprire un attimo il diario perché mi sa che in realtà sto casino delle umbre mi sa che sta persona ha fatto un patto con Raphael ecco perché poteva entrare e stare alla locanda ha fatto un patto con Raphael sto stronzo cioè sto stronzo povero Cristo lo capisco quindi sto stronzo Raphael l'ho reso il nostro bellissimo e caro vampiro di turno un ladro guerriero monaco ho fatto un mischiaticcio sono andato molto di di memoria e compagnia è una barzelletta no non è una barzelletta il nostro caro astario è diventato un ladro di livello 4 monaco e guerriero di livello 2 perché io ho pensato lui voglio renderlo una roba un po' più particolare perché voglio in realtà cominciare a biclassare a dare delle piccolarità un po' a tutti c'è pure shadow art dopo il suo decimo livello si prenderà un biclass perché il fatto che baldo is gay 3 col fatto che ha semplificato molte cose del sistema di combattimento delle regole parte che astario non c'ha 20 dca un ladro con 20 dca cioè comunque non fa poco no però voglio vedere siamo tutti all'otto e si c'ha 20 perché essendo un monaco e indossando soltanto abiti lui prende la capacità del monaco di mettere sulla propria classe armatura anche il modificatore della saggezza più gli stivali che gli danno un più 1 questi che gli danno un più 1 e un più 2 praticamente lui c'ha un più 4 un più 3 un più 2 un più 1 10 e quando l'ho respeccato l'ho fatto fare di primo livello da guerriero perché così si è preso il privilegio per poter utilizzare un'arma su ogni mano e quindi massimizzare i danni il secondo livello per l'azione impetuosa per poter attaccare un'altra volta poi si è preso normalmente la sua sottoclasse da ladro col talento con l'assassino e due livelli da monaco per avere appunto i key point per avere la raffica di colpi che voglio vedere come worka su un ladro per avere passo del vento che gli permette di poter muoversi più veloce di saltare a gratis e compagnia e iare iare da sé però vediamo come work era oh ma è enorme sto luogo ma che cazzo ma che cosa cosa ma siamo arrivati alla clinica di josefka è la stessa cosa è successa ma ho capito ma così io ero entrato in un buco a cazzo memorandum a tutto il personale medico della casa di cura di retwin malus storm capo ma scusate ma quanti torme esistono cioè questo è tipo il quarto che incontriamo cioè a meno che cento anni fa torme tutta la famiglia hanno detto ok radiamo al suolo tutto è stato portato alla mia attenzione il fatto che i nostri cosiddetti curatori spregano preziose risorse anestetiche sui pazienti anziani e mortalmente feriti l'infermiera l'idwin mi informa che questa pratica allenisce le sofferenze io lo sapevo vedi che sono un figlio di puttana oggi sono l'unica che magari aveva ancora un po' di senno eh raga c'avate ragione e se poi te ne penti oh salve scusi sorella sinda aveva un appuntamento per le 16 queste sono tipo quelle dei pokemon ci hanno tipo 18 sorelle va bene va bene faccio la fila ma te smaito in testa va da corta piatto da carlac staccami un orecchio ammorci va bene torno in fila ma posso andare dritto almeno passiamo di qua vieni qua starion puttana cioè si veramente questa infermiera prima stavo spippolando mettendo le mani ovunque di ocrimo rompi i coglioni per ogni posto che faccio madonna vieni qua no madonna se la build work ok adesso si può esplorare e non oso discutere con lui o con nessuno dei torm ok quindi si sono effettivamente proprio una famiglia è una famiglia che ha sputtanato tutto lascia che le scorte scarsegino che le ferite di certi pazienti si piaghino per poterle studiare e mi ordina di medicare solo i giustizieri oscuri che hanno bisogno di cure Anna Lidwin porca puttana è veramente quella che ha ammazzato l'unica sana davvero paziente in difficoltà ah è vivo no è sotto operazione malustore è la madonna di cristo mato in realtà vorrei chiacchierarci non vorrei entrare a gamba tesa madonna che bella è proprio un'aula dove facevano le lezioni il obiettivo mamma ogni studente è benvenuto allora raccapricciante ma bellissima siamo qua balliamo sono una studentessa sì per favore illuminami detto molto con sarcasmo nella mia testa absenza absenza no other word captures the heart of Shah so very perfectly it is the scalpel led journey that leads from pain to pizza what the fuck is this loot talking about see what is the light of eyes but the cancer that causes one to witness the laceration of being if light is the symptom then darkness is the cure for in light there is presence but in darkness there is absence in light is presence in darkness absence you are well on your way but one white orb disfigures you still let us finish the cure ma che tra l'altro effettivamente tutta sta roba mo non l'ho commentata ma loro ricordano moltissimo dei seguaci di Shah perché loro hanno gli occhi bendati probabilmente non hanno neanche gli occhi sicuramente lui c'ha tutta la roba di Shah addosso gli ha cacciato l'occhi in mezzo in realtà tutto sto schifo di roba varia in realtà è pieno zeppo di chicche dettagli però puttana miseria quindi tu sei la causa dell'unica sofferenza che c'è qui una sofferenza a cui il dovere di porre fine balliamo 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 action surge ce ne togliamo una dalle palle e invece no nonostante tutti i danni invece no Karlak guascona ovviamente prima di andare in ira tu devi smaitare sulla testa di sti figli di puttana secondo attacco una ce la siamo fatta visto che hai l'elisir puoi fare anche un altro attacco e quindi lignaggio davernus su quella no basta un attacco normale cazzo l'ho missata invece tu invece figata richiede gli strumenti da bisturi alle assistenti che figata segao minchia cambia arma ma bellissimo cazzo infatti si allontanano perché poi magari gli danno le robe gli danno il support e compagnia Karlak perché rossa è nemica non va bene perché sei nemica è ostile verso chiunque perché Karlak devo fermarla Karlak se si gira verso di noi ci fa veramente male 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 guardiani spirituali sempre buoni corri qua appunto poi una guarigione di massa così bene diciamo tutti quanti shadow art te lo dico te stai peppi una martellata sui denti passo velato su questa perché dobbiamo togliere su quelle che gli danno gli strumenti salve brava guascona ma basta attaccarmi la moglie dio cristo dai accuccia dai c'ha due hp ci aveva due hp arrivo signor otto anzi eliminiamo prima la signorina l'assistente salve marchiari i deboli su taglio su quel bastardo lì così te impari a fare lo stronzo e si carica cazzo l'ho missato Karlak qua in mezzo vieni da me vai da oga per favore ah no ha finito il confuso figli puttana mo ti apro il culo 54 danni e altri tot ce ne abbiamo anche un altro Karlak gli ha tolto tipo 140 hp critico paralizzante una volta tra un riposo lungo e l'altro quando metti a segno un colpo che io su un umanoide puoi paralizzarlo per tuoi turni ma sapete che vuol dire poter paralizzare con un crit entra in fight furtivo a stare non paralizza il bersaglio quello rimane così tutti i colpi che riceve vicini su crit tu puoi fare una gangbang io pensavo fosse per andare giù c'è un obitorio pieno di non morti che escono dalle fottute pareti un obitorio siamo a Parigi che t'obitorio una catacomba cadavere bruciato bene le fosse comuni c'è la madonna comunque potete fare una quantità di build su sto gioco incredibile sentiranno tutti questi oggettini potete fare robe veramente incredibili vecchia rastrelliera con armi arrugginite tra l'altro questi sono simboli dei selun sì perché è dorato amico mi è morto male ma come cazzo è morto però vedi una roba del genere per questo io dico che secondo me non è semplicemente che hanno fatto a botte e sono morti una roba del genere vuol dire che è esploso tipo qualcosa tipo bomba atomica no che l'ha lasciato così perché tu quando muori non è che stai così e ci muori innanzi fino alla fine sì è morto di depressione letteralmente madonna rag queste sono tutte armature selunite io stavo scherzando questa è una fossa comune chi è? ah zombie guarda che figo è una trappola lo zombie sta steso sopra un condotto zombie maggiore madonna che bello però crit quindi tempra dei non morti non worka perché tempra dei non morti viene disattivato da danni radianti o da crit la calma è la virtù dei forti come si dice no? tu aspe no ti ho messo lì stai fermo lì si muove dio cristo che cosa ti muovi? dato questi utilizzeranno tutti scatto perché stanno molto lontani e c'è il puzzones smite ah cazzo gli hanno messo 18 a forza e 17 a costituzione questi se non fate danni radianti o i credici non li tirate giù mai va bene vieni a casa merda vieni a casa vogliamo giocare giochiamo eh zizzo di merda tu fai questo così li prendiamo entrambi ma critalo sì questo si prende 59 danni sacri nel giro di poche ore ogni respiro era come un pugnale che mi trafiggeva la gola bramavo l'aria come un lupo brama la carne ma potevo ancora respirare sufficienza che sia il mio sangue di asim oh era un asimar questo allora ok in realtà perché lì non l'hanno scritto ma pure l'altro stronzo che abbiamo affrontato in taverna era un asimar che bella sta roba queste sono quelle domande molto che si fanno anche i giocatori no come cazzo si creano gli incantesimi e questo si è messo lì a prendere che ne so focus arcani materiali i gesti con le mani a fare gli esperimenti e stava cercando di creare un incantesimo nuovo per rimuovere sta roba fighissimo cazzo c'è qua dietro oh il monte è fatto aia no no si questo è mirkul giustamente nell'ubitorio c'avevano qualcosa per mirkul ogni volta sembra che sto da affanculo a qualcuno ragazzi però è un dio è il dio che si gestiva la morte mettiamola detta facile perché il fatto che la morte è un dominio così tanto ampio cioè come abbiamo letto prima che non può gestire una persona quindi c'è sta pal che gestisce l'omicidio le cose brutte c'è chi gestisce i morti c'è chi gestisce l'altra fetta della metà è un puttanaio no mi ha fatto fare un check sul nascondersi perché è una cazzo di trappola no io ho paura non mi avvicino a quello stronzo puoi finirlo tranquillamente con un colpo state facendo l'imboscata e vabbè eeeh bonjour io questo però ve lo sapete che me la immagino in chiave reale io mi immagino un master puttana miseria comincio a rollare di 20 per l'iniziativa ok sono tutti fradici in realtà quindi qua sapessimo che il kung fu è la madonna di cristo davvero la madonna di cristo ragazzi tieni qua a stare a non scivolare come un minchione prendi la freccia fulminante lì easy se vedi questa barra qua sopra ho colpito due stronzi vabbè ma c'è sta il capo più due stronzi 18 nemici portacci loro per adesso mi sembrano molto semplici da gestire quindi non so così preoccupato mi dovrò preoccupare a breve lo so tu a stare in realtà ti prepari qua perché prepari l'assalto te ne stai qua zitto zitto in realtà c'è adotta questi se li gestisce tranquillamente da solo ma se li butto in acqua muoiono no giustamente sanno nuotare quindi fa l'effetto dell'acqua e tornano uuuu ti tirano le reti per indebolirti vanno questi in realtà sono fatti per andare in massa che ti assaltano insieme perché ti immobilizzano e poi ti martoriano fighissimo attacco furtivo freccia fulminante lì poi in realtà puoi anche entrare normalmente con il pugnale visto che sono fratici prendono il doppio dei danni da fulmine e ghiaccio in realtà Oga se tu vieni qua puoi fare questo yes ne fai due sono io o non hanno preso una volta mi ha fatto danno adesso l'elettricità peterà perché sì ma fortunatamente non è divinity quindi non mi stanno per 18 turni sul post vengo distrutto stanno arrivando i git perché ha tintinnato il robo che ci ha dato coso vox vox gos vos come cazzo si chiama il tizio dei git ho capito ma non mi apparite così davanti avatar di vlakit come io lo faccio vedere io e cade sto grit sui denti e rimani anche paralizzata brutta stronza sei paralizzata ergo tutti gli attacchi contro di te sono critici c'ho un'azione bonus facciamo raffica di colpi perché sono tutti crit oga smai tagli sul buco del culo l'avatar di vlakit non ti faccio vedere io l'avatar di vlakit vai vai l'avatar di vlakit dell'avatar così te impari a spawnarmi davanti agli occhi madonna è una macchina da guerra questo coccodrillo fammi vedere che c'hai il coso di vlakit armatura dell'interdizione psionica mano magica rapida vuoi lanciare mano magica come azione bonus e ti dà telecinesi ok questi sono sgravati ma perché sotto vedo un bari oh dio cristo chi cazzo è questo allora non posso dire niente perché qualsiasi cosa che dico me bannano tripudio di culi si è da qualsiasi parte tu lo vedi è un culo e ha un martello botte oga con tutto l'amore che ti posso volere perché ti sei seduta con una tale noscialanza al bancone non posso dire chi al bancone di questa persona si è proprio seduta con la voglia del dammi un drink cazzo è stata una giornata lunga è iniziata in realtà da dieci minuti neanche che servi da bere no la gula sta bene sta bene non è secca è la madonna di cristo dei punti vita aspetta eh sistemiamo i signorini e poi vengo da te lo esiliamo lo mandiamo un attimo a fanculo non credo prenderai mai zio perché c'hai lo svantaggio per via della luce di shadow art in più shadow art c'ha tipo 21 la cia mettiamo un guardiano della fede là dietro dietro al culone diamo un d4 extra a tutti quanti astarion ne vai a fare i buchi come ho fatto a fargli un danno è immune e c'ha reflusso elettrico cos'è i danni da fulmini hanno cambiato la natura della mistura speciale di tisobald attenzione aggiungere altri sapori elementari potrebbe rendere peggiorata la mistura ok ma è un cancro cioè se ogni volta che lo colpisci con un elemento si baffa fortuna che sei accecato che tra l'altro bellissimo ecco che cazzo era cambia il mood di tutta la zona e ho capito come inchiappettarti pezzo di merda distruggi qualcosa si karlak meno che non ci sta una manovella qualcosa da dove attivare però non me lo fa attaccare non è questo invece sarebbe stato figo ma non è lui a meno che non c'è una leva da qualche parte che non sto a vedere in mezzo a sto puttanaio eh qua se non lo capisco questo mi apre il culo perché io vedevo che qui ci sta vedi ah no per un turno gli rimarrà l'immunità ok e poi gli si toglie ok ah vabbè era semplicemente che deve farlo tre volte e poi sta pettera vabbè ma diventa vulnerabile addirittura vulnerabile è un po' too much pezzo di merda si esatto ci ho fatto le peggio cacate invece dovevi semplicemente fargli venire il reggetto lo stavo dicendo che sti robbi in realtà mi sembrano persone maledette sono poveri cristi maledetti questo effettivamente aveva i non morti che bevevano che faceva la roba era molto più buono research notes they describe a powerful venom extracted from a rare purple worm distiller Thisibald Thorne sought to create a fatal poison using the worm's gullet he procured several parts of a worm gullet but rinsed one in error the poison he brewed was noxious but not fatal Thisibald devoted months to formulating a deadly poison with the remaining ingredients without success after exhaustive experimentation he was able to make a near deadly extract from the glands but to complete his poison Thisibald required one last ingredient the petals of a corpse rose the book's index reveals corpse roses may grow near tombs mausoleums and particularly redolent cadavers Thisibald enlisted a courier from Baldur's Gate to obtain corpse rose petals and other ingredients and deliver them to a covert location unfortunately a deep purple stain darkens the final page obscuring the parcel's destination si ho capito ma a me cosa interessa de sto veleno di scelta sbloccata mistura trincia stomaco di Thisibald comunque questo è bello perché ti sbloccano effettivamente dei crafting sve rob è una figata assurda come rob ho trovato un luto sembra che appartenesse al pugno fiammante su una testa fortissimo Daniel he's still trapped there he needs help calm breathe you've been trapped in the Shadowfell for a century take a moment to clear your mind a century you're Halsin Thanyol said to find you you must help him please I will but I need to know where Thanyol is if I venture into the Shadowfell blind I will never find him I'm not sure I can put it into words the landscape there shifts and changes vabbè lascio che se ne occupi Halsin ma lui è più esperto lavander whenever I saw Thanyol I always smelled lavender I can work with that rest now maybe by the lakeshore I have what we need to proceed but I'll need your help be ready this may prove perilous ecco a che cosa serviva questo luogo serviva per il nostro caro Halsin you're here good now we can begin che me devo aspettare Thanyol is trapped in the Shadowfell but thanks to your efforts I know where to look now I must go there alone e che devo fare io with the Oakfather blessing I can infiltrate the Shadowfell but doing so will sap my strength I'll need your help if I'm to return I need you to stay here keep the portal open until I return and defend it at all costs entrare da solo mi sembra un suicidio vengo con te no if there's any interference with the portal then our one chance is lost forever and so am I I'd rather have you by my side but this is the only way it took me years of study of seeking the Oakfather favor to find a way to part the veil pray that this works Oakfather hear me aid me force open the jaws of darkness make passage for your vessel of light it's ready I'll return with Thanyol as soon as possible stay close to the portal buy me what time you can quindi devo proteggere passaggio dell'umatato bellissimo con tutto giustamente visto che è druidico con le piante e cazzi e mazzi vari un pochino di ombre sì harpista harpista mastino ma in realtà questa se non c'hanno roba ranged so pure come gestirmela non è preoccupante l'unico fatto è che ok voi state là ma gli altri ah la madonna eh allora starion dovrei avere la freccia dei molti ok ne hai seccati due già è qualcosa con l'offend ti fai quell'altro ok gna gna due puoi avvicinarti di un altro tot qua yes no cazzo non lo prendo per un figa di pelo no guardalo va bene andiamo su quest'altro becca oh sti 45 danni andiamo dall'altro ok abbiamo un'azione extra posso andare anche lì adesso leppo sucate madonna oga ha fatto una macchina da guerra questo coccodrillo chadward puttana miseria pozione della velocità ma ha sentito che cazzo hai detto stronzo va bene va bene va bene va bene guardiani spirituali passo di qua passo di qua corri qua giù chadward piano 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 si fa tutto piano piano si fa tutto ragazzi vorrei tornare di qua perché tanto quelli adesso caricheranno però lo mettiamo qua guardiano della fede perché dovrebbe renderli perfetti entrambi madonna poi dite che i chierici non so forti perché purtroppo le persone molte volte pensano che il chierico sia lo stronzo che cura il chierico è una macchina da guerra un chierico del dominio della guerra della tempesta fa una quantità di danni eh oh eh e voi così che cazzo è successo alzin puoi tornare sono arrivati puri che babbari tutti ci stanno ma che cazzo ma poi sono tutti armati 50 hp no vabbè adesso torna l'incarnazione della minchia ma noi visto che siamo potenti non abbiamo bisogno dell'incarnazione de sto cazzo catta via e torna al portale perché sta arrivando della merda e bisogna pararla il fatto è che prima devo pensare a sti stronzi perché quelli bene o male adesso posso ancora gestirmeli flagra 60 danni flagra 2 cazzo aumentiamo un po' la capacità di acchiapparci di tutti pergamena di tempesta di ghiaccio la tiriamo qua scusate karlak il fatto è che qui c'è il mastino quella merda sta qua da qualche parte ma non ho idea di dove cazzo sta però tecnicamente questo dovrebbe stannare tutte le cose sulla via quindi se il doggo di merda è qua più o meno perché è andato per la kill ok cazzo cane di merda finalmente usiamo la nostra capacità scacciare i non morti che comunque male non fa ok mi avvicino qua così se questi si alzano e scappano via almeno un attacco d'opportunità se lo beccano tu sei scacciato ma ti prendi l'attacco del guardiano madonna quanto adoro ste cazzo di cose quando workano bene il mio party veramente ha raggiunto la divinità ah ma c'è ah voi dovete sapere che io vedo questa roba qui per vedere la chat no c'è vedo la chat e tre quarti di schermo voi fino ad adesso secondo me mi stavate prendendo come un coglione e probabilmente lo sono non ho visto questa cosa qui io stavo con l'ansia chissà che cazzo succede non l'ho visto star no e io infatti ho letteralmente adesso che abbiamo ucciso tutto ho fatto ah dobbiamo condurre Tania in un luogo sicuro due colpi di chiave inglese sia giusta allora adesso si lutta tutto ma questi non avranno niente eh sì però vedi madonna di larian in grazia di dio puoi aggiungerlo anche per pc quella cazzo di roba puoi aggiungere anche per pc il mass veramente luttare perché io non è che adesso mi posso ma poi guarda c'hanno tutta roba che perché giustamente noi stiamo facendo questo no voi immaginatevi un player col controller cioè io ho il mouse che quindi flicco tra le varie cose un player da console io non voglio immaginare qua si spara piuttosto che fare sta roba dice vabbè cazzi vostra tenetevi lì gli oggetti dimmi come posso essere d'aiuto si torna sempre a dead space qua esatto mecha soul effettivamente ho incontrato una specie di bambino d'ombra prima un ragazzino chiamato Oliver più o meno dell'età di tanniel ok è qua che lui effettivamente comincia a essere reclutabile che te lo puoi portare dietro e me ne occupo io bellino si intanto però l'illuminazione non si è messa sugli abiti bambino sei veramente potentissimo per fare queste cose io ve lo giuro non mi sembra assolutamente tanniel cioè magari l'ho visto male io che cazzo c'ha le corna c'ha i cornetti si ma so cosa sei davvero e so qual è il tuo posto devi di congiungerti con tanniel non rendere la cosa ancora più difficile eh sì a Starion eh sì chissà dove si è andata a infilare il ragazzino non ne ho aspetta forse laggiù in quella casetta di merda so bambini kamikaze ha creato dei bambini d'ombra kamikaze questo è essenzialmente l'estremizzazione della depressione cioè sei così solo che ti crei letteralmente gli amici immaginari ma che so fisici cioè effettivamente non è che te li stai a immaginare più di tanto come mai giapponesi perché so kamikaze Harlock e anche oggi la battuta razzista l'abbiamo fatta cioè tu mi spari addosso i bambini kamikaze esplosivi fatti d'ombra e io devo giocare ma io ti apro il culo non so se l'hai capito avvicinatevi tutti qua no no passate perché tantevo che era qualche altra merda che ci carica Shadward ci pare al culo ah vabbè sembra chissà che cazzo avevi evocato eh te stai a divertire con sti bambini eh disse il prete venite questo più o meno è l'effetto che ha l'anticoncezionale cioè voi immaginate quando usate il preservativo succede questo più o meno i bambini diventano polvere oh questa bellissima avevi tutto quello che volevi ma non è quello che ti serviva davvero Daniel lui è tuo amico è tuo fartello è te sei stato molto coraggioso pieno di risorse pensa a quanto potrai aiutare Daniel ma certo che ti riguole siete e sarete sempre legati l'uno all'altro guardalo oh guarda mi fai venire me non voglio di staccarti la capoccia cucciolino radunare gli alleati che cazzo è muo radunare gli alleati è una missione principale reclutare gli alleati per la battaglia contro il culto alzime c'è grado per il nostro aiuto nel proteggere la saccharità della vita in caso di necessità potremo contare sui tuoi formidabili poteri druidici vuole diventare un fedele alleato oh anche il bue magari se tu aiutavi il bue ad arrivare a Baldur's Gate ti dava una mano magari la bambina druidica che abbiamo nel campamento ci può dare una mano figata possiamo veramente reclutare alleati ma che Ketherick abbia fatto un patto con Mirkul in qualche modo no aspetta aspetta c'è la bambina che abbiamo salvato da Koga perché sei davanti al cimitero qua hey I know you you're twist'em up isn't that Arabella sei un druido perché quelle sono le radici del druido oppure ha fatto un patto con un'entità superiore effettivamente come l'hai acquisita attenzione Silvanus ti ha tipo benedetta pure Ogast ha tipo che cazzo stai c'ha sta faccia fighissimo e che ce fai qua fuori e beh troverò i tuoi genitori puoi contare su di me no c'è una locanda chiamata ultima luce vai da Alfira ti terrà al sicuro speriamo solo in possessata sì perché io ho paura che adesso la mando alla taverna e arriviamo esplosa tutti morti zombie vai all'ultima luce ma questa se la manda a fanculo muore quindi vai all'accampamento io adesso me la trovo mentre dormo di notte apro gli occhi al posto di che ne so lei zelle qualcun altro mi trovo lei in tipose tipo anticristo che vola chi c'è laggiù un non morto ogni tanto vedo delle capocce che poppano sorella Lidwin ma ti dirò diciamo che è quel ambiguo tipo quelli di Silent Hill ah bambina ho trovato tua madre ho trovato veramente la madre quella eh mi spoiler i personaggi figli è che è colpa mia ho la vista a raggi x porca troia io ripeto cioè c'ha quel filo molto Silent Hill io dico sì waifu perché hai pure un corpo senza vita beh decisamente senza vita è da un bel po' a giudicare dall'odore ok mi sa che questa è tipo una povera crista che effettivamente curava le persone era un'infermiera ma è tipo schizzata male cioè penso che l'ombra gli abbia dato alla testa do una spintarella al corpo per vedere se magari c'ha ragione c'ha scritto il tag è grosso così morto ma che cazzo ne so io in un mondo di magia pergamena di parlare con i morti perché eri qua Zevlor ha tradito ha tradito però molti dicevano che aveva impanicato che si era paralizzato ha sentito la voce ha sentito la voce dell'assoluta che lo intimoriva mi sa perché effettivamente Zevlor da quel che ho capito è una sorta di paladino senza dio cioè ha perso il proprio voto le proprie cose perché c'era scritto che era un cavaliere infernale una roba del genere quindi magari ha fatto cambio a bandiera perché l'assoluta gli ha detto io ti posso ridere i poteri però cazzo tra di tutto il tuo popolo dopo che ti sei fatto l'assalto dei goblin mi pare un po' una bastardata però signorina il cadavere mi ha detto che l'hai ucciso qua se uno dovesse un attimo mettersi a fare un discorso l'abbiamo liberata perché questa sicuramente sarà stata fregata corrotta con l'ombra e giustizieri oscuri rabella mi dispiace ma sono morti sono morti ho trovato i cadaveri però cazzo non puoi neanche indolciti la pillola cioè vabbè che questa è diventata l'anticristo druidico quindi che cazzo gli indolcisca la pillola pure se fosse mi dispiace rabella se vuoi ti riporto sai che cosa che gli piazzi davanti tu sono i membri del party nostro ma sapete qua che plot twist in realtà cioè avete magari un membro del party che è morto come uno stronzo gli dice rabele guarda i genitori tuoi sono morti si può fare un cazzo senti mi puoi riportare in vita a starion non so che torna dall'oltre domba non credo non possono essere respirare non so non resista non resista i vinti di cambiamento lascia loro ti portare non non ascolti non senti dove la creazione mette la ruota dove la mattina mette la mattina la ruta di all'in balance they're dead i can't balance your very soul is tangled in shadow arabella's magic wild as cursed briar her talent is now yours too the girl must learn the ways of the arcane but she shan't remain here ah vabbè ma semplicemente arabella è diventata una stregona della magia selvaggia druidica insomma è una croc così dove andrà allora the weave knows her purpose it will guide her plainly if she listens arabella holds a power beyond reckoning that of the decaying forest and the seedling that bore it but it is unbalanced her yoke is already heavy if she walks thy path it will surely break arabella will depart once thou dost leave these accursed lands she will find her way safely thus it is fated bowman you're making me leave fear not bello però sto dialogo però bello perché lei non è minchia è una crocca ancora più complesso perché non è un druido è un druido oscuro perché giustamente lei ha preso i poteri dall'idolo ma l'idolo in quel momento veniva utilizzato come focus arcano per fare il rituale delle spine che è magia druidica oscura lei è è un personaggio di dnd lei si è il personaggio base di ogni party più andiamo avanti più sto cazzo d'accampamento è proprio l'accampamento tem party di dnd abbiamo il personaggio psfak la bambina con i superpoteri il party nostro che sono tutti casi umani perché una bomba atomica un'altra è un motore infernale quell'altra è un vampiro sciolto una è seguace da morte da distruzione siamo un party di disagiati mentali porca troia puoi fidarti di avvizzito se dice che sarà il sicuro dove si crede è E ha fatto vedere la via che avrebbe percorso. Ha vizzito e ha incoraggiato Rabella ad apprendere le vie della trama. Lei se n'è andata per trovare la sua strada nel mondo. Lama d'ombra. Manifesta una spada corta d'ombra nella tua mano che infligge 2 di 8 danni psichici. Quando attacchi un bersaglio leggermente o pesantemente oscurato con quest'arma ottieni vantaggio e tiri per colpire. La lama d'ombra può essere disegupaggiata ed equipaggiata di nuovo, ma deve rimanere nell'inventario dell'incantatore. È una puzzetta oscura. Cioè raga, 2 di 8 più 4 è uno sbrego. Cioè è mo' perché siamo noi, ma sto anello in realtà potrei darlo da Starion. Cioè col crit questi sono 4 di 8. Cioè fra un po' è una palla di fuoco. E mi ha imparato anche a intralciare ombre di Arabella. Intralcia ai non morti le creature dell'ombra. Vedete? Lei è proprio una druida oscura. Pura, 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 eh. Invulnerabile. Mentre il canto non to... Ma non mettetece lo Dio Cristo! Ma vaffanculo! Mettete... Oh! La potenza di Gatorick Thor me lo rende invulnerabile. Dio madonna! Vabbè, ce l'avevo preso. Vabbè, ce l'avevo preso, General. Vabbè, ogni ordre. Vabbè, le fatti suggeriscono otherwise. Vabbè, tu aveva chiamato l'artifaccia. Vabbè, tu aveva fatto l'artifaccia. Vabbè, no, no. Vabbè, Minfara. Vabbè, che ha fatto l'ordere. Vabbè, che... Vabbè! Vabbè! Quel goblin in particolare non ha avuto reazioni perché non ha il parassita. Quindi, infatti, sta a dire che cazzo avete tutti i guanti cagotto a fischio. Eh, eh, non ha il parassita. Resta in silenzio e continua a guardare. Devo tenere un profilo basso. Vabbè, General! Porno! General Thorne. Vi lascio il nostro nuovo arrivo parlare. Tu hai visto cosa queste creature sono capabili di e tu hai visto le loro inadequazioni. Non è così? Qual è il tuo giudizio? Tu sai che non è loial? Dicci a lui! Certo! Vabbè, Thorne. Dicci al General come i goblin servivano la nostra causa. Tra l'altro sì, ma lui è bellissimo esteticamente, il doppiatore mi sta... Mi ha fatto venire i peletti, ma in realtà anche tutta la sua storia, perché leggendomi tutti i documenti è molto molto figo perché era un selunita molto molto vicino a quella roba che però poi è morta la moglie, quindi si è convertito. Ho visto gli orrori che hanno compiuto nel nome dell'assoluto. Grazie! Sì, è felice che qualcuno ha notato. Sono sicuro che erano molto entusiasti. Ma il zeal senza efficacia... è per i bambini, non per i servizi. Ci siamo troppo vicino alla fine. E il nuovo inizio. Io non potrò perdere l'assoluto più lungo. Voi muovere. Voi? No! No! You crekin' old bag of sheds! I'm so sorry, my lord, she's an unbeliever outside my control. Try again. Ha! No! Dispose of the rest as you see fit. Or better yet, put that true soul to use. You have far more important matters to attend to. Or have you forgotten? Of course not, my lord. Thank you. You heard the general. The goblins are yours. Deal with them however you wish. They are yours. You can release them, kill them or feed them to each other for all. I care. Just deal with them. Here, in the seat of the absolute power, your authority over them is complete. They will obey any command. Report to me upstairs when you're done. Please! You gotta help me! For old time's sake! Ah, ma tu sei quello stronzetto con lo gnomo? Forse? Sarà un processo per combattimento? Se vuoi vivere dovrai vincere. Oh, crap! You're gonna enjoy this, ain't ya? È successa una cosa che secondo me stiamo un attimo al limite. Ha approvato Karlak, ha disapprovato Astarion. Ma perché Astarion diceva sgozzali. Sì, lui è quello lì, ci ho preso perché in un'altra run l'ho ucciso. È il goblin che attacca lo gnomo al cosetto che gira. Minchia, che cazzo mi sono ricordato? General Thorne's prayers and preparations must not be disturbed. The rooftop is off limits to everyone. Even you, Disciples Realm? Everyone. Keep watching and ensure that nobody passes. Excellent timing, true soul. The goblins, tell me how they suffered. No, better yet. Show me. Her mind enters yours abruptly. Flickering across your memories in a blaze of excitement. Tongues of psychic flame lap at the memory of the goblins dying by your hand. I see you like to handle underlings physically. So do I. Ma per direi tempo, sono qui per riparare gli errori altrui. Your confidence is delicious. I can see why the absolute might be hungry to dig deeper into that mind of yours. I certainly am. She parts the folds of your mind again, touching your wants and hopes, tasting them. Every emotion soaks into her mind's palate. But there is purpose to her exploration. She is searching for proof of your faith. She is formidable. But how many days of passion will you get out of her? How many nights? The absolute will give you something that can last. With the absolute. Your fantasies can become more real than flesh. The pleasures of the mind can surpass those of the body. I have already been blessed to stand in her presence. It was bliss. She gave me everything I wanted. Vabbè, ma una padellata dei cazzi vostra! Che cazzo vuoi? Madonna! Sembra bello. Come faccio a ottenere quello che voglio io? Zetta! So you'll be to the answers you seek. Dio Cristo! Madonna, che fastidio! C'è questa loca che dice Puttana miseria! Ma posso stare con me stessa nella mia cazzo di mente per due minuti? Vivo per servire. Cosa devo fare? There is a relic that General Thorne requires. He sent his most trusted advisor, disciple Balthazar, to retrieve it. The relic is beneath the Thorne family mausoleum. That is where you will find Balthazar. But we have lost contact with him. Go there. Aid Balthazar if you can. And bring the relic home. Ah, ok. Adesso lo si spiegano tante robe. Perché Balthazar Monop sarà sicuramente un necromante da quello che abbiamo letto. Infatti il mio pensiero era, scusa, ma se canto notturno è la cosa che ho fatto? Che rende immortale Cateric. Perché cazzo tenerla lontana da se... Cioè io l'avrei incatenata al muro dietro la mia stanza da letto. Ok, è che era andato là a richiapparla ma è successo qualche patatrack. Finalmente sì, andiamo lì. E che cos'è esattamente questa reliquia che è stato mandato a recuperare? It is something that General Thorne desires. And that he has ordered us to retrieve. That is all you need to know. She's suddenly nervous. On edge. Talking about the relic makes her anxious. Eh, perché probabilmente se Cateric è così forte riesce tipo costantemente a fare una sorta di scan passivo. E se lei diceva, oh è la cosa che rende immortale Cateric, la scapocciava sul posto. Parlare di questa reliquia ti rende agitata, perché? E a questo punto se lui si è fatto da una mano da un necromante e compagnia, mi sa che i signorini dei Torm che stanno in città non è che erano propriamente volenteriosi di fare le cose. Oh! Beh, giustamente è l'ufficio di un necromante. Ma rimani là. Fatti cazzi tuoi. Eh, c'è una combinazione specifica da fare? Ma devo andare veramente a culo? C'è un cuore qua da bravo necromante. Prendi il cuore dai. Non si sa mai che torna utile. Oh! 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 Cassina sta portando il merda! E per brigati! Porca puttana! No! Dai Astalion! Dio Cristo! Ah vabbè ok si chiude! Non è quello! Oh! Eh! Un cuore! Oh! Oh! Eh! Aspetta! Perché ho detto c'è stanno cuori a cazzo ovunque! Un necromante! Vabbè raga un po' di buccio di culo e di intuizione non fa male a nessuno. Volontà dominà. Ah no ok ecco perché infatti dicevo gli gnolli non è che se fanno pigliare così. L'ha dominati. Minchia se qua non l'avessimo ucciso ma magari ci stava anche flind. Se mi ricordassi così la roba per fare gli esami universitari mi sarei già laureato. Un momento true soul. Usa una spoon per stirre il soup Barnabas. Olviare l'axe mia carina. Ora... Come posso aiutarti? Ma stai cercando di insegnare un ragazzo di iena mostruosa a fare... Non ho mai visto un ognolo addomesticato prima d'ora. Lo soffio e dolce come il pudin, non è? Non mi ricorda più la sua vita nella città. E' quello che mi ha dato l'absoluta quando mi stavo davanti a lei. Per ricordare le vie di lei. Per farci credere che c'è qualcosa di meglio. Ok è semplicemente che l'assoluta ti fa qualcosa al cervello e ti fa sbloccare delle capacità. O in realtà gli ha dato dei pudri psichici perché non è che sono capacità. Sei davvero stata di fronte all'assoluta? Ho. E' una cosa che sentire la sua voce. E' una cosa che sentire il potere che lei può dare. Osserva. Barnabas, amore! Vieni a mostrare che un buon ragazzo sei! Che vorresti lui fare? Le persone normali si pigliano un gatto, un criceto, un cane, un... balletto? Oh, ti piacciono questo, non ti? Barnabas? No, Barnabas! Abbiamo parlato di questo? No, Barnabas! Abbiamo parlato di questo? No, Barnabas! Abbiamo parlato di questo? Soltanto sciogliendo mentalmente. Aggiungi i tuoi sforzi ai suoi, che vuol dire? Cioè, gli do una mano a controllarlo, meglio che se non muore? Inoperati in giro... The weight of the assault drives the knoll to his knees, defiance melting away like snow in summer Ma scusate ma ho perso... Cioè perché col fatto del voto della vendetta avrei dovuto farla sbranà. E sono diventato una posta, dai, che cazzo? Davvero? Vabbè, oeeh, così. Ehi, che ci vuole? Un attimo. Per mantenere il basso profilo? Cose che capino, sì, sì. Sì, peccato che io non pensavo che una cazzata del genere rompesse, cioè, la via verso dove? Un attimo che non è finito. Non ti devo alcuna spiegazione, non devo rendere conto a nessuno se non a me stessa, perciò che faccio? A silent betrayal. To know the reason for your fall is, perhaps, to know the shape of things to come. Take comfort in your undoing. I, like you, abandoned my cause. But much can still be achieved. Your oath is broken. The light within you fades. A new power is awakening. Anche perché questa in realtà è una cosa che ci sta molto bene col personaggio di Oga, perché lei, onestamente, sta roba gli ha dato il cazzo del non posso farmi un attimo furbo. Io ho capito che ho fatto un voto, ma se il voto rischia di far del male a me e alle persone che gli stanno care, gli gira il culo. Perché là non era una questione soltanto Oga, no? Là è una questione che se parte il fight, tu c'hai una torre dei assolutisti che te caricano. Più Caterick Thorn, più Logre, più i necromanti. Cioè, parlami di sto potere. Darkness will obey your summons. The dead will march to your rhythm. Even now, these shadows gather around you. They sense the cracks in your armor. They yearn to be used to be inflicted. Che bella la sua armatura, mi sa che non ci sta in-game, è vero? La sua è veramente bella, mi ricorda un botto quella di Berserk, anche se un po' modificata. Diventerò un'apostata. Do not resist. Surrender. And be remade. No born of a vile source. These powers can be used for good or ill. Bellissima sta roba esteticamente. Oh! Hai violato il tuo giuramento sacro in nome del potere e dell'ambizione a resta soltanto l'oscovità a guidare le tue azioni. Sofferenza maligna. Il pezzale subisce un D4, danni a necroni, che ogni turno i suoi nemici ottengono vantaggi ai tiri per colpire contro di lui. Controllai non morti. Potere il tuo giuramento per ottenere il controllo di una catona non morta e non morta eseguirà e attaccherai i tuoi nemici fino al prossimo riposo lungo. No! Dove vai? Tifling, fatti i cazzi tuoi che campi cent'anni. Via! Ma dove vai disarmata tu? Guarda se ci muore un tifling come un coglione. Ma questi sono tutti i paladini della vendetta, eh? Per usare a Biura vuol dire che sono tutti i paladini della vendetta. Questi smaitano tutti. Però con voi conosco una locanda chiamata ultima luce e li sarete al sicuro. Safe? That's no small claim in these parts. Lead the damn way. Hold there! You can't just land and start unloading strangers. They're procedures, damn it! No one gets in without being tested. Commander Jahira has orders. Già, Jahira ha ordinato a tutti gli arpisti di lasciarmi andare e venire in base alle mie esigenze. Il commander ha scelto tu, non i tuoi amici. Qualcuno potrebbe essere infectato, quindi cerchiamo tutte le nuove facce. Noi escezioni. Eh, formi una linea. Vediamo se l'Apsoluto, il piccolo pet, si riconosce a tutti. L'Apsoluto? What? What are you doing? Fai come dice, basta, fidati questa è la strada facile. Se ciò che hai detto è vero, nessuno ha niente da freddare. Se non, beh... We'll soon find out. Ma mi sa che dobbiamo aspettare davvero. Oh, che alla trafficante di persone. Zey, Tifling! È bello che lui sta a fa questo. Lo sai che ti fanno vedere l'animazione con la boccetta, no? No, lui gli dà uno sguardo, dice No, ma tu mi sembri bene. Bello, però, che effettivamente non è stato istantaneo, ma si sono messi a fare tutta la roba. Bellissimo. Facendo quello che so fare meglio. Le ruine. Se fosse qualcuno di più, io sarei sceptico. Ma tu... Hai più oltre che ottengo il titolo. Tu dovrebbe aver visto. Lei è bravato, ma anche assicurante. In una buona forma. Oh, non ho mai pensato che vedo... Beh, qualcuno di nuovo. Grazie. A mille volte, grazie. Un'ultima domanda. Take this off my hands. It suits you better. Tunica potente. È un vestiario. Infliggi danni extra con i trucchetti pari al tuo modificatore di carisma. Ben voluto e ben fortificato. A questo del tuo turno ottiene i punti feriti attemporanei pari al tuo modificatore di carisma e ti dà anche un più uno alla classe armatura. Ah, ma questa è una tunica da bardo, ma di quelle proprio... Pergamena di disintegrazione. Questa è buona. Vedete? 10 di 6. Più 40. No, mi sa che non è di Shares, sto mausoleo. No, 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 signore. Sicuramente di Kelemvor. E perché ci stai tu? Our hero thought but a treasure ahead did not consider the peace of the dead. Through the dark she went creeping and awoke what was sleeping. A new grave they dug which she herself fed. Ooh, spooky. Sì, ma hai rotto il cazzo. Cioè, pure Augusta, tipo... Ma che... Da quanto tempo te ne stavi lì a provare questa piccola recita? Until it was perfect. I've grown quite fond of you, you know, in my way. I thought it only fair to warn you about the dangers ahead. Mm-hmm. Il diavolo che mi dice, attenzione, sei sicuro. Secondo me vuoi vingulare. So badare a me stessa, Raphael. Spero che ti posso spaccare il cranio. Intrepido as ever. It would be pointless of me to try to bar you from entering. But I can set the scene, as it were. Prepare you for your role. Arriva al punto. I already did. If through the dark you go creeping and awake what is sleeping, chances are many more graves than yours alone will soon be fed. Ma a me stai a di che là dentro c'è stato tipo un esercito dei giustizieri. Ah! L'abbiamo letto la volta scorsa. Sì. C'è un esercito dei giustizieri magari, che cazzo ne so, addormentati. Ha fatto qualcosa. Perché se ci abbiamo un peccato che lui è stato quello ad aiutare i Seluniti, ha intrappolato là dentro tutti i giustizieri oscuri. Ecco perché non vuole che ci entriamo. Perché dice, bro, se tu metti la manina dove non devi mettere la manina, ricambi un esercito dei giustizieri oscuri che caricano a testa bassa. Voglio scoparmi e alzimi. La prima roba che rileggo in chat dopo aver abbassato lo sguardo. Sputa il figa di Rospo. Molto bene. C'è un esercito che si tratta in silenzio e in shadow. Un esercito che, come me, è molto di un'inferno persuasione. Tu lo sai, vero, che col fatto che sei il diavolo che me se voleva in culà a sangue, io sto filtrando tutto questo robo proprio con una notte sopra. E tutto quello che tu mi hai detto è lo specchio della verità. Mi stai raccontando solo la metà di ciò che sai realmente, non mi inganni. Hai paura di questa creatura, Raffael? Guarda qui, pipsqueak. Do not underestimate this opponent. At best, you will have the blink of an eye to strike. Strike first, strike true. Defy the odds, for they are distinctly in its favor. That much I owe the bastard to concede. And don't think I've forgotten your tale, Astarion. When the beast is dead, I'll consider that payment enough to translate those scars of yours. A fairer deal than I expected. You wound me, Spawn. I always deal fairly. And will close this particular deal soon enough. Vanquish the beast and all will be revealed. Sì, comunque la signorina che abbiamo incontrato la volta scorsa è di Raffael, ha fatto lo stesso identico effetto. Che tra l'altro noi qua dentro dobbiamo cacciare un Horton, che in Horton in realtà è una roba dell'inferno molto molto particolare, perché è tipo una sorta di comandante, è molto forte. E tra l'altro, se effettivamente questo santuario qua è l'altra parte di quello che si ricollega alla fornace, i demoni che dicevano in tutti i racconti, nei documenti, non erano quei due demoni del cazzo. No, no, no. Erano tipo un esercito dei demoni comandati da Storton. Però si ricollega al fatto che Raffael ha dato una mano. Come ha dato una mano? Ha dato una mano mandando un esercito essenzialmente dei mondi e cazzi e mazzi vari dentro la bocca dei giustizieri oscuri. Per adesso, almeno credo. Però sto stronzo è rimasto qua dentro. Andiamo dentro a sto cazzo di mausoleo. Vedo che è una bella cripta dei non morti. Cazzo sì, Araldo di Baldassar. Ah beh, è vero, questo perché è il mausoleo dei Thorm, essenzialmente. Qua ci stanno seppelliti tutti loro. Catherick Thorm rinsacca le gravi dei suoi ancestri per honorare il nuovo Dio. E vabbè che ormai a Catherick, che cazzo gli frega, che ci può farci pure gli stuzzicadenti con le ossa dei parenti. Allora, non è il canto notturno? Isabelle? Devo andare a fare due chiacchiere con la chierica di Selun. Ecco perché mi sembrava un po' stranita e perché si sente sporca. Perché è stata riportata in vita contro la sua volontà. E penso anche in modo greve. Perché immagino che per una persona del Selun sono morto, sono morto, un po' come la madre. E ecco perché la rivuole, perché è la figlia. Dove cazzo sei? Ah, è vero, c'hai anche l'orecchia da elfa, non ci avevo fatto caso, vaffanculo. Isobel, ho trovato il sarcofago vuoto di una certa Isobel Thorm, la figlia di Catherick. Ok, non te lo dirà mai. Però l'intuizione più il collegamento riesce a capirlo giustamente. E allora il canto notturno non ho idea di chi cazzo sia. Ti chiamerà canto notturno? Madonna che bello, che ti fa vedere che poi Piersciare è andato. Grazie, grazie Pelor. Madonna che bello. Però tocca dire che lo stile di Shara è bello. Sai che è bello? Perché sei diventato un Chierico di Shara? Ammazzare le persone, cambiamo... No, e che figa se il viola mi piace. L'odoro il viola, è il mio colore preferito. E sono diventato uno Sharita. Deduco che quello non lo potrò mai toccare. Gemma dell'ombra. Mi hai fatto prendere un colpo. Tanto si è parlato a Shara. Dio Cristo, più piano. Posso toccarla quella? No, a meno che non sia già il primo enigma. Soltanto nell'oscurità? Allora, ci stanno tante troppe vie. Però bello, se è proprio un dungeon dungeon così molto vecchio stile, con le trappole e gli enigmi, potrebbe essere veramente figo rispetto al uccidi roba, perché sì. Ci stanno dei topi che stanno pregando a degli altari di Shara. Di che parli? Parlando di te, intruder, invader, un nonazionato. Questi pali non sono per te. La ratta non è solo territoriale, è orgogliosa. Questo posto significa un grande problema. Mi sembra che questo posto sia importante per te, perché? Ma sto giustizieri dei Shark trasformati in topi? Cioè, non so se è perché hanno usato un doppiatore per il topo in generale, ma mi sa che è la stessa persona. A meno che non hanno preso una persona, l'anima l'hanno spacchettata tipo una matata e ci hanno fatto tanti topi. E qua c'è un altare per Shara addirittura. Prega all'altare, ma mettetevi le mani in culo. Ah, che tra l'altro, una cosa che io ho fatto nelle volte scorse, entravo dentro i personaggi per fargli fare le cose apposta, non lo farò più. Magari ci andiamo a perdere qualcosa. Se il personaggio di per sé non fa un passo avanti, come tutte le altre volte in cui erano le situazioni in cui gli interessa, io non gli entro dentro e li comando. No, ci starebbe stare effettivamente. Ma se lei in prima persona, visto che è una cosa così importante per lei, del background, del personaggio e compagnia, non lo va a fare, e tu magari non ti ci puoi mettere a chiacchierare a dirgli perché lo fai, o perché magari stai a fare altre robe, insomma un attimo interagisci, io non glielo faccio fare di mia spontanea volontà. Soprattutto a un tempio di Shark, non è che dice una cazzatina, è una cosa seria. Soprattutto a un attimo interagisci, un attimo interagisci, un attimo interagisci, Ah, è Balthasar. Zrael mi ha mandato a cercare una persona di nome Balthasar. Did she now? Enter. I will see if I have any use for you. Stinking pile of ogre, afterbirth! The Quakes, heralds, the Shadows. They found me. Questa è roba Che ha spawnato Sharr Perché non vuole che stanno qua Gli invasori oscuri usano i tremori ur Per viaggiare verso il piano materiale Carlac fai un passo vicino a sto stronzo così diamo il vantaggio Al vostro amichetto 44 danni Puttana Eva Puttana Eva Sì ma dobbiamo eliminare Sti cazzo di cosi perché sennò da qua Continuano ad uscire roba Vabbè ma spaccateli Ma dai ma non state fermi come dei besughi Rompeteli Dio Cristo Eh vabbè andò ci ha pensato lui Che cazzo ce ne frega a noi Volete fare qualcosa? Per Dio O non ce ne frega un cazzo Perché a quanto pare mi sembra che non ve ne freghi niente Ma che bello è esteticamente Fighissimo Ho combattuto una battaglia proprio sotto il tuo naso Un po' di aiuto sarebbe stato utile Proviamo a fare un tiro su storia Per sapere un po' di più Magari è qualcosa di qualche altro Baldur's Gate Ma non l'ho giocato così tanto Perfetto Zrel ha parlato di una reliquia Una cosa chiamata canto notturno nei tuoi appunti Erano molto interessanti Perché ve sciolgo a tutti quanti Non so se l'hai capita sta cosa Vede flagro il culo A tutti Fallo scatena le tue creazioni Ma non ti proteggeranno da me Né dalla mia giusta furia Minchia questa capita a fagiolo Ma non ti proteggeranno da me Se sembra che tu abbia un buon motivo per essere orgoglioso del canto notturno, dimmi un po' di più. Guarda, ti lascio vivo soltanto perché spero vivamente che sia una persona, ma a sto punto l'ha confermato ancora di più anche lui, perché spero che te possa scrocchiamare. Cioè io voglio proprio che appena la libero sta cazzo di persona, ti apre in due. Io spero sia tipo un paladino della vendetta di Selun, no? Cioè proprio qualcosa che lo carica a testa bassa. Ma ho capito, ma che caro, ma Dio santo, zio, ma hai trasformato tutti, non morti. E' stato bellissimo che gli ha fatto quel triangolo sul petto per ricordare il simbolo dell'assoluta. Non glielo chiedo neanche, dammi sta gambana di merda. Oh, e tu? Ah beh è vero che qua dentro ci sta anche il signorino, me l'ero dimenticato. Allora, quello mi sta portando in una trappola, tipo sicuro. A vedere sto puttanaio qua. Perché tanto quello stronzo, vabbè che se tanto ci sta pure è invisibile. Se è un orthon è tutta la vita invisibile. Addirittura danni da cazzo. Ma non risalite, Dio Cristo! Scendete! Carlac, c'hai 18.000 forza! Scendi! Ma perché cazzo vi buggate? Ma quanto ci deve volere? Fai sto saltino, su! Allora, sembra Frodo quando scappano dal barrog. Tanto palese mi... Io ho l'occhio per vedere l'invisibile. Cioè, avevo preso. Cioè, tutti quei signori... Ma tooooooo! Tutta quell'esercito e cazzo e mazzi vai. E hanno stati mandati da Rafael per distruggere gli sciariti. Però mi sa che poi penso che Rafael voleva anche inchiappettasse lui e gli ha fatto qualcosa per lasciarlo qui. Sto puttanaio che è successo qua è perché i Seruniti appunto stavano con le spalle al muro. E come abbiamo letto nei vari documenti hanno fatto un patto con un diavolo. Probabilmente Rafael che ha mandato sto esercito ad aprire il culo agli sciariti. Infatti l'abbiamo visto pure quando stavamo la forgia da Damantio. Dove? Cazzo vai! Perdonatemi! Perché secondo me lo sapete che qual è il bug? È che avendo appunto tanta forza il loro algoritmo non è che gli dice vai sul ciglio e salta. Gli dice salta da dove stai ma se salta da dove sta probabilmente si fa danni. Quindi lì addice col cazzo che lo faccio. È quello il problema che sussiste eh. Minchia ma tra l'altro lui qua proprio ci ha cominciato a vivere perché ci ha messo il trono. C'ha le prede. Perché sicuramente se poi lui è stato mandato veramente da un diavolo e da Rafael non è che può andassene. C'ha il contratto. C'è il trono. C'è il trono. Bellissimo come da cacciatore lui riesce a sentire tutte queste cose Perché non a caso può rendersi invisibile C'ha ste balestre, può evocar roba Bellissimi, Jorton Conosci Raffaele? In realtà qua bisogna stare attenti perché uccidere lui è importante anche molto per la quest da Starion Credo sia una di quelle robe proprio... Devo gestirmela bene Ho avuto a che fare con quel diavolo, magari possiamo aiutarci reciprocatamente A Starion, non so se tu l'hai notato che siamo circondati da un esercito dei diavoli Se ci facciamo un attimo furbi non è che fa male a mamma, no? O vuoi che diamo le tue gambe in pasto alla tigre ma Nara assassina la giù? Cioè, incoglioni ogni tanto Condividiamo le nostre esperienze su Raffaele, forse possiamo aiutarci a vicenda Bargaining, are you? A Carator warlord once tried the same I made him watch As I ate his concubines in young Then fashioned a codpiece From his skull You can't help It's not just walls that came here Not the traps, the dark Or the creatures it hides Something stronger holds me A contract Either I fulfill the contract Die trying Or forfeit my freedom If I leave this place now I'll become Raphael's slave Ok Figa come cosa Vedete ci avevamo preso In realtà Raphael nell'aiutare i sei luniti Ha cercato di inculare Quello che ha mandato Pure come al solito Un pezzo di merda Si dà il caso Che io sia un esperto di questo tipo di accordi E che ci sia sempre una scappatoia Raphael is no foolish story devil His mind is Different Sneaky Listen Spill or the blood Sworn to the night Silence Or prayers Smother each right Wonder Shah's whores Hungry to slay Leave no justice here Alive to obey Leave none to hear it Then be set free This song is your oath Swear Swear it to me Well that explains where all the dark justice years went There is almost an admiring thrum in the back of your mind Your patron seems to enjoy a well crafted contract Especially one with a built in loophole The song's last couplet is a clause that's nearly impossible to fulfill So he's the one who slaughtered the justice years Can we kill him now? Because if he doesn't die Then Raphael won't tell me a damn thing about my scars Ma che tra l'altro scuse ma a sto punto mi è veramente da pensare che Raphael è un bardo Perché canticchia, fa le filastrocche, il contratto appunto è una canzone Ah perché lui sente addirittura una canzone È vero l'abbiamo letto anche nei documenti Perché secondo me la cosa che ha fatto Raphael è stato che ha ucciso tutti quanti Avrà preso l'ultimo giustiziere L'ha trasformato in topo E l'ha moltiplicato Cioè a meno che non so tanti giustizieri Eh però mi sembra strano Ha creato tipo un esercito dei topi Perché così non ce li farai mai ad uccidere tutti Perché se li producono come delle merde Se infilano nei pertuggi E mi sa che nel mentre canticchiano pure No non credo c'entri il canto notturno È una fregatura da parte di Raphael Perché tra l'altro la canzoncina ci sta anche molto bene Con la cosa di Raphael che gli ha fatto la canzoncina come contratto no? Deve esserci qualcosa che ti sei perso Lascia che perlustri dintorni per te A Starion che vuoi Allora meno male Non preoccuparti Fa tutto parte Del piano Ma visto che abbiamo dei cazzo di parassiti Chiedermelo tramite la telepatia Del tipo bro che cazzo stai a fa E io ti dicevo niente Sta tutto nel piano Brutto rincoglionito I parassiti solo quando vi fa comodo li utilizzate eh Mi è venuta un'idea del cazzo Non funzionerà mai eh Però Tentar non nuoce come si dice no? Sono cadaveri Sto parlando con un letto di cadaveri Com'è possibile? Ah perché sono tutti giustizieri Aspetta fammi ricercare Che serviva sto posto? Madonna di Dio Ma bellissimo L'hanno anni Io Io Era un'idea del cazzo Oh Qualcuno è sopravvissuto E è sfuggito alla bestia? Io posso andare a lavorare Alla Larian L'ultimo L'ha trasformato in tanti tope Vabbè Quindi effettivamente T'ha fregato In tutto e per tutto Però figata Vedete perché non è una cazzata Il fatto che avevo intuito Che è sempre la stessa persona Perché effettivamente È sempre la stessa persona Come dalle una leccata? Ma che cazzo vuol dire? Analizza la carne Ma che cazzo lecca il culo Di un ragno morto? Ma no raga Ma assolutamente Che vuol dire La scena del The Spider? Metti Gary in squadra Perché c'è una reazione Ma io immagino Che anche L'altri membri del party Spero abbiano una reazione Se uno stronzo Si metta a leccare il culo Di un ragno Nel senso Chissà che cazzo di malattie Mi prendo La scabbia magica È diventato un meme Gale che ti dice Hai leccato un ragno morto Ragno morto Non sei normale E li capisco Tanto brutta frase Ti prego leccalo Che cosa ragazzi? Mettiamo il soggetto Ma scusate Ma perché se vede Che sta una droga La bestia Bonico sto leccalo voi Dentro di una chat porno Annusa a fondo Con tutte le narici Salviamo e lecchiamo Sto cazzo di ragno morto Dai ma guarda Adesso gli si stacca La lingua Veramente E implodo Dalle una leccata Ma cosa provi tu? Cosa provi? Ma Carlac Ma tu che cazzo Te sei fumata? Oh Dio Cristo Vai Ah sì Servono ste gemme d'ombra E la prima ce la siamo fatta Questa invece che prova è? Prova del passo di sé Spero che non sia quello che ho in mente Perché ci aprono il culo fortissimo ragazzi Penso di capire dove stiamo andando a parare Un'imboscata? Lo sapevo Eh chi è la tifling di merda? Sarò io No dai Però che merda così Cioè perché hanno fatto il tifling di Zari e il ba Sì io non ho tutte ste resistenze Perché non è abbastanza difficile Ti manca la cosa più divertente Bene Regole di Char Aspetta Che questa è nuova? Se danneggi un riflesso che non è il tuo Char interviene imponendoti una penalità Di meno una tutte le prove di caratteristiche Di uno fino al tuo prossimo riposo lungo Questo effetto può essere applicato da quattro volte Ecco perché è la prova di sé Puoi attaccare solo te stesso Vabbè facciamoci furbi Eh questi fanno male Salve lei eh Come va tutto bene La famiglia La vita Questo smite che ti stai per prendere sul buco del culo E la mia te copia E' andata a fanculo Fammi vedere fammi vedere Ho 41 taglienti 3 di duono E 46 radiosi Un bijou All might porca troia Ah sta Se in grazia del padre eterno c'ha chi appassi Perché giustamente ci avranno anche la CIA nostra No aspetta 20 Sì vabbè Sì Sì Uppamoli A cazzo Questo è proprio un parli a cazzo E basta Questo è quando il player alle prime armi dice Master guarda ho fatto un attimo Due cambiamenti sulla scheda Niente di che 28 a forza Questa Capisco che è per farti la challenge Di te stesso eh Però è un peccato Prova del passo della fede Che tanto non so se stavo usando Il pugnale Che ho ottenuto Dalla città eh Perché gliel'ho lasciato Nell'inventario Non sapendo se poteva servire a qualcosa Invece volare qui Sì che è una meraviglia Eh tecnicamente ce l'ho la pergamena Però vorrei farlo legit Ma devo seguire quei passi d'ombra lì di merda Perché il fatto che mi sembra Troppo sicuro Il passare Per le statue Ma tu vedi la strada come mai A me no Forse perché è Shadow Art O perché ha fatto le altre prove magari Oppure ste gemme Te danno qualcosa Perché effettivamente Le vedo pure con gli altri però Magari era buggato prima E l'hanno patchato eh Perché ricordate io gioco comunque con le paccine Quindi magari Doveva essere più easy Ma era stato Vreso più difficile Sono dovuto andare a memoria Cioè perché ti facevano vedere un passo E tu dovevi rifarlo Questa invece Ah è la biblioteca Biblioteca del silenzio Aglia qua se sei un incantatore greve Da 26 a 60 anni Oggi purtroppo sono stato molto assente Perché è stata una giornata lunga Ah L'ho letto dopo Eh l'ho letto dopo raga Non me ne sono accorto L'altro è bello Ma sono così tanto protetti da shark E madonna riescono addirittura A ritorci contro la roba radiosa Passo del vento con lo scatto Così abbiamo Un salto a gratis O posso saltare Posso saltare in oltranza Ma scusate Ma che porcata è Ma un monaco forza E ha devastazione Salta ovunque come una gazzella De merda Carlac balla Mi piace come tutto sto bordello Che cosa può far tacere il canto notturno Abbiamo provati tutti La cantora notturna Cioè era inteso L'unica che può farlo È shark stessa Ma ho capito Ma vaffanculo E tra l'altro Riguardando anche le live Dopo che abbiamo fatto Quelle discussioni Su Mirkul Bane E Bal Mi sono accorto Che effettivamente Il simbolo dell'assoluto È l'unione dei tre simboli Non ci ho fatto mai caso Così di prima chitto Ma il simbolo dell'assoluto È il simbolo di Bal Più il simbolo di Bane Più il simbolo di Mirkul Perché ha la mano Il triangolo E il teschio Cioè Figata In realtà è tutto un piano Di tre divinità Slash figli di puttana Per prendersi Baldus Gate È una figata 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 Cosa gli fanno trività Con Baldus? Ma in realtà penso Che sia tipo Quella roba del Non è tanto Che loro gli frega Di Baldus Ma che avranno Degli araldi Che li rappresentano All'interno del piano materiale È quello il fatto Cioè Sicuramente questi Per mantenere i poteri Con loro Cioè Caterick Immagino che per fare Il patto con Mirkul Gli avrà dato Uno sbrego De robe Di poteri E di cadaveri E cazzi e mazzi vari Perché Io mo non so Così tanto esperto Ma tecnicamente In D&D Le divinità Esistono Sì Ma non sono Totalmente presenti Cioè Non sono delle entità Che girano Effettivamente Per il piano materiale Di The Forgotten Reams Cioè le divinità Risiedono sul Il piano divino Che è molto 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 Lontano Da quello materiale Infatti Quello che dicevano I chierici I paladini E tutte quelle robe Sono proprio Una frazione Talmente Tanto minima Che lasciamo perdere E tra l'altro Un'altra roba Che ho visto È che Il nome che abbiamo letto Nel diario di Catering Thorn Non è a cazzo È la persona Di cui ci ha parlato Gale È lo stronzo Che tramite la corona E cazzi e mazzi vari Cercava di diventare Una divinità E che ha fatto esplodere L'intera città Facendola crollare È quella persona Che ha forzato Mistra In realtà La vecchia forma Di Mistra A morire Per salvare tutti E che poi È rinata appunto In Mistra Quindi In realtà Si spiega ancora di più Perché Mistra vuole Che Gale Faccia quella cosa Perché appunto Col fatto che Mistra Non è che può Agire attivamente All'interno del mondo Il cervellone Ha sopra la corona Di quel tizio Il cervellone Ha sopra la corona Che fece implodere Tipo tutto quanto Compreso una divinità Ecco perché Mistra gli sta così Tanto sul culo E dà una mano Perché vuole eliminarlo Tipo quando è ritornato Bal qualche decennio Prima degli eventi È morto uno Eh esatto Sì Che poi Oggigiorno Penso saranno Non è che Solo sono dimenticato Però ripeto Nei Forgotten Reams Cento anni Dipende da chi li vive Perché In cento anni Muogliono De una vita Proprio naturale Tanti umani Gli elfi Battono un ciglio Le divinità Le cose un po' Più particolari I diavoli Diciamo che I Forgotten Reams Sembrano quasi l'Italia Che tra l'altro Con questa cosa Dei mezzelfi Che invecchiano La cosa che Ho ricollegato anche È che probabilmente A Cateric Gli ha roduto il culo Proprio per quello A Cateric Gli ha roduto il culo Perché probabilmente Si è sposato un'umana Cioè l'umana Non è che è morta De malattia È morta De vita natural Durante Per questo Gli ruote così tanto Il culo Infatti secondo me I so bella È una mezzelfa Cateric È elfo puro E però vedete Dopo che ho fatto Tutto sto sproloquio Ricollegando le robe Ma vedete Che bel filo di trama Che c'è a Baldur's Gate 3 Cioè quello ti fa capire Quando tu hai a disposizione Un'ambientazione Così pregna Così ben strutturata Come sai Una cazzatina Chiamata Forgotten Reams Puoi fare Delle robe Veramente fighe Cioè ti fa capire Perché Mistra si mischia E perché Cateric Gli girava il culo È una figata assurda Ma non sono teorie Victor È vero Cioè il fatto È che effettivamente La corona di quello stronzo È la corona del tizio Che ha fatto esplode Mistra E se ne analizziamo Probabilmente Isobel Isobel è un mezzelfo Ergo la madre era umana È morta di vita natural durante Però in D&D La cosa è Che se tu muori Di vita natural durante Non puoi essere riportato in vita Isobel effettivamente Era malata Come abbiamo letto nei diari La madre è morta Proprio di vecchiaia Voi andate a vedere Qualsiasi Qualsiasi Incantesimo Di resurrezione Non so se pure La resurrezione pura Non me lo ricordo Ma qualsiasi Incantesimo Di resurrezione Ti dice Oh Se è morta di vita Sua Cioè è diventato vecchio E morto Dalla Fine Mi pare pure in realtà La resurrezione pure Dice guarda Può essere morto da mill'anni Ma se è morto D'età è morto È figa come cosa Jurgir Amore de mamma Purtroppo Un uccellino Mi ha detto Che non se può fa Figa Purtroppo i dialoghi Da warlock Hanno sputtanato qualcosa E quindi bisognerà uccitelo Anche qua Da quel che ho capito Ci sarebbe dovuto essere Una sorta di check Su sta canzone Sul poterla sentire Ah c'è proprio attacca Cioè non c'è Guarda Cazzi No aspetta Se c'è attacca Allora mi faccio furbo Dio Cristo Nel senso Se tanto dobbiamo attaccare Per attaccare Entriamo Di punizione donante Sui denti Di livello 2 91% L'eroi Che kids Tutta Quello è stato crit De dato proprio Io non ho fatto niente Non ho usato skill È stato culo Quanti danni Madonna Allora in realtà Vorrei togliere Questo dalle palle Morto al primo turno Che bello Che bello È diventato polvere Che dettaglio Perché gli immondi Quando muoiono Non muoiono Semplicemente Tornano all'inferno Lui adesso È rispawnato Giù ad Avernus Che figata Però l'esercito Non se n'è andato Per niente La tigre D'altro è amico nostro Allora Carlac Ti dico Vai qua giù E ti tanki quei due Buongiorno Avete mai lotato Gesù Cristo No Lo state per fare Onesti Onesti Questo Easy Ci facciamo anche l'altro Ah cazzo Ci stavamo Però dovermo farcelo adesso Da Buru Kill Cosa è che ti dico Metti un guardiano Della fede lì Così quello appena si muove Se la prende Fortissimo Diamo un bel buff A tutti quanti Vieni qua Che se questo si muove È una mazzettata Tu Su quello Bravissimo Danni massimi Hai fatto Ok yoga Ci arrivi fin là Ma sì Che ci arrivi Fai un bel salto A mamma Hai mai sentito Queste parole Plus ultra breve O uso velocità No mi sembra Un po' too much Vediamo con un colpo solo Non c'hai più Lo smite Tu perché sei Di livello basso Cucciolina Quindi no Natural grit Ma che cazzo Ci frega A noi Vai Allora vai pure Da questo Carlac Comunque la adoro Perché col fatto Che adesso Ha anche l'arma Distance Lei può attaccare Vedete quel cono Lì attorno Invece da S5 fit So 10 Quindi anche se Non c'hai il range Arriva Ma tu rimani là Tu che cazzo Hai fatto a Carlac No 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 Non si bug In questo momento Tu me lo fai mirare Sto figlio di puttana Pezzo di merda Non mi toccare Mai più Carlac Che cazzo Ma poi Gli ha fatto Un danno Tigrotto Ah stai odorando I rimasugli Leave Before I get hungry Again Madonna Quelle ganassotte Proprio Così Non so Mi viene voglia When a devil Is struck down On this Charming Plane Of existence It returns To the hells To the very point Where it last stood Before venturing To whichever Devil forsaken Plane It died on In the case Of our friend Yergeer The Orthon You so handily Dispatched In the temple Of Shah He manifested In my House Of hope He returned To me Chastened But intact His wounds healed His body Restored He thought I would dismember Him But he has His uses So instead I am Reeducating Him We deliver The devil Now I want What I'm owed We had a deal Indeed We did I discovered All there is to know About those scars Of yours It's a rather Grim tale Even for my Tastes Su Parla Dio Cristo As you wish Brace yourself Astarian We're about To unveil Your destiny As you know Already Your precious Skin Is home To one part Of a contract Between the Archdevil Mephistopheles And your former Master Cazador Cazador In full The contract States that Cazador Will be granted Knowledge Of an infernal Ritual So vile It has never Been performed The rite Of profane Ascension It promises To be a Marvelous Ceremony Very Elaborate Incredibly Ancient And entirely Diabolical If he Completes The rite He will Become a New kind Of being The vampire Ascendant All the Strengths Of his Vampiric Form Will be Amplified And alongside Them he Will enjoy The luxuries Of the Living The arousals And appetites Of man Will return To him And unlike Astarion He will have No need Of a parasite To protect Him From the Sun But the Ritual Has its Price As all Worthwhile Things do Lord Cazador Will need To sacrifice A number Of souls Including All Of his Vampiric Spawn If He is To ascend Imagine How he felt Then When one Of those Precious Spawns Simply Disappeared Into Thin Air The only Missing Ingredient Is Astarion You Are the Final Piece He requires To complete The ritual Your scars Bind You To it Your soul Will set Off a very Wave Of death Bringing Cazador His Twisted Life And That My Tragic And Toothsome Friend Is That Now If You'll Excuse me I Have Business Elsewhere But In In Già A me La cosa Che non Mi Preoccupa De Meno È Il Fatto Che Può Viaggiare Sotto Al Solo A me Mi Preoccupa Che Un vampiro Che Può Ascendere Per Tipo L'inverso Probabilmente Cioè Vai A diventare Una sorta De Diavolo Mi Coglioni Cioè De Essere Maligno Più Che Dio Cioè Come Posso Mettere Sopra C'è Il paradiso Sotto L'inferno Sopra Gli Dèi E Sotto Le Merde Lui Va Tipo Vicino A Lucifero Una Robba Del Genere Sì Altro Piano Suicida E Vedo I Nastarion Proprio La Faccia Di Ma Se Lo Faccio Io Palesemente Cioè Hai Sotto Di Questo I Was Contemplating It's A lot To Take In What Do Do Eh Esatto I Diavoli Non Sottanzo Contenti Perché Diciamo Che De Arci Diavoli E Cazzi E Mazzivari Cioè Non è Che Ce ne Stanno 75 Miliardi Quindi Non è Che Piace Cioè Il Potere Divino Cioè Tutta Quella Branca Di Tipi Di Poteri Non è Che Infinito Te Lo Mazzini Just When I Start To Enjoy It He Never Leave Me Alone I Didn't Think He Would When I Was Just One More Wretched Toy For Him To Play With But If I The Key To This Power He Craves He Hunt Me To The End Of Fe Rune I Need To Take The Fight To Him And I Need You To Help Me Ma Dentro Una Persona Che Passa Per La Strada Cioè Secondo Me Perché Lui Stesso Sa Che A Starion Magari C'ha Il Parassita E Particolare Sono La Mamma Del Gruppo No Certo Che Ti Aiuto Gli daremo La Caccia E L'Uccideremo Che C'hai Se Sta Per Lasciare Oh Non Guarda Come Il Cerbiato Davanti I Fari Sta Così Che C'hai Dimmelo E Lo Dici Tu Vabbè Mi Guardi Così Ti Viene Il Torcichevole Dopo Due Minuti Sta Con La Cura Magica Qua Eh Si Char Gli Ha Detto Qualcosa La Terza Sfera Del Drago Adesso Evoghiamo Sharon Entra Nella Coltre Oscura Ti sembra Il momento Di mettesa A pregare Prega Che cazzo Ti devo dire Vai Allora T'ho parlato Non mi hai risposto T'ho detto Vabbè Prega Che cazzo Ti devo dire Un piccoglioni Che succede Sì T'ha appena detto D'ammazzarla Eh Mi sa che Se siamo giocati Il canto notturno Guarda che Mari Pio Qua lancia Te lo dico Andiamo Andiamo Avanti Savoia Morti Abbiamo Caduta Sì Presa lei Appostata Non puoi Vincolare Una persona Ai bisogni Di un'altra Liberala Ora Che cazzo Bound to a soul cage of my creation And lending her immortal strength to general Thor Her power, his will, and my genius An unsurpassable feat Ramblings most unsane Poor Balthazar, for maggots ate his brain long ago Hold your tongue, Aelin Or I'll take it away from you again And you No more questions No more interference Se è lei il motivo per cui Caterick dorme invulnerabile Allora non la porterai via Vattene da qui O sei un uomo morto O questo è inteso perché me la voglio tenere qua Ma sai che ti dico? Ma vattene affanculo Fly at me, you fool You cannot stop what is to come Eh dio cristo Eh avvocato, il lirai della madonnina Ma scusa ma davvero si può fare sta cosa, Zach? Ma che cazzo vuol dire? Ma anzi con personaggio forza lo tiri Ok Sono tanti Va bene Si carica lui Dritto dritto Ti prendi un sacco d'attacchi Porca troia In realtà io ho paura di stare vicino agli strapiombi ragazzi Perché ho paura che questi stronzi ti lanciano di sotto Shadowheart Quello che sai fare meglio Ovvero evocazione dei guardiani spirituali di livello 5 Con l'azione bonus Pozione della velocità Così hai un'altra azione Di qua Passetto 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 Azione di scatto Ho fatto una cazzata Non mi dovevo avvicinare a questo Buccio di culo Riesce a correre sopra? Perfetta Perfetta cazzo Oga vola di sotto La gli tira una spalla Lo sape? Madonna che culo Figlio di puttana Stavamo veramente troppo vicini ragazzi Si stava per succedere un puttanaio bronzetto Già mi immaginavo Ogo che faceva Vabbè porca madre Mentre me la faccio Casa di addosso velocità Così avremo delle rubettine Spostati in realtà qua dietro Figli di puttana Andiamo dal nostro caro Baltasar Madonna Piccolo Figlio di puttana Madonna Esecutore Può essere automaticamente un crit grazie a un anello Non ho visto neanche quanti danni gli ho fatto So Chia pezzo di merda Carlac Mia carissima guascona Incalzare Finisci sto stronzo Vai da questo Vai a dare una mano a tua moglie per favore Che è letargica Eh vabbè Dai 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 ci potevamo stare So Non ti avvicinare perché muori eh Appunto Flowless comunque sta battaglia L'ho deflagrata Devastazione planetaria Diadema delle ossa Animare morti di livello 3 Ogni alleato non morto entro 6 metri Resistente ai contundenti taglienti e perforanti Ricerche sulla gabbia dell'anima Il volume pieno di appunti Parlano di una gabbia dell'anima Che lega la forza vitale di una persona a quella di un'altra Un disegno rozzo mostra due figure Una accanto all'altra Quella di sinistra sembra avere un pugnale che le sporge dal petto Mentre quella di destra ha ferite corrispondenti proprio sul petto Madonna mia Lo sapete che cazzo vuol dire sta cosa? Vi ricordate la scena in cui il goblin Gli pianta una cazzo di ascia bipenne qua E una cazzo di ascia bipenne qua? Cioè vuol dire che questa povera crista Gli è arrivata nascia bipenne qua E nascia bipenne qua E spoiler Gli curano anche istantaneamente le ferite Balthazar has drawn his final rancid breath A pity it was not my hand that brought it about Instead It was you You Who have come to seek the praise of your wicked goddess You Who have come to drive a dagger through my heart Not a dagger A spear My lady Shah's spear Her fate is mine to seal Let me handle this The fate you seal is your own To be a dark justicia Is to turn your heart from everything but loss You will know no love No joy Only servitude Until of course your mistress inevitably discards you And there is much she does not tell you A terrible blood price That may extend beyond my own death You feel Shadowheart bristling This is important to her But your bond is strong You may yet be able to sway her From the path of duty To the path of light And Nightsong is not blind to your conflict Behind that raging heart Is the restless beat of one who knows too well And her fate hangs in the balance Madonna povera Cristina Guardate che è piena Che poi quelle non è che sono cicatrici Perché è peggio Sono tipo cicatrici magiche È una roba veramente Boh È davvero questo ciò che vuoi? Eh ma è dubbiosa Pure lei Perché ha visto la merda Poi bellissimo anche il dettaglio Che ti fa vedere che il canto notturno Fa tutta Ti apro il culo Però sta tipo con un HP giustamente Roleplay Dio Cristina Mi fido di cuor oscuro E non intervengo Well, well, well What's that I sense? A spear intended for my heart? Empowered by your goddess, I Empowered to kill the child of a god Do you know what I am, little assassin? For I know you A lost child Frightened by wolves in the dark What did you say? Much has been promised to you Hasn't it? But what has been taken from you? What do you know of your own heart? Your own life? I sense more in you than you know Whatever you think you know of me won't matter Once I become who I'm meant to be Ok, sa qualcosa su di lei Però c'è una persuasione Mo sarà tipo 35 Non farlo cuore oscuro Non ucciderla E la cosa che volevo fare io Era non instigarla Quindi io non volevo andare per quella via Perché mi sembrava nella mia testa Molto Cioè gli fai così Vai troppo brutale Per come è fatta Shadowheart Non credo Vada bene Persuasione Dai Non farlo cuore oscuro Non ucciderla Te ne pentirai Se adesso esce Che è tipo 40 21 Lasciamo pure tutte le Come di cazzo si chiamano I ritiri di merda del creato E tira di nuovo sto cazzo di tiro Ma puttana I dati stanno parlando eh Non me fate scherzi Ok Ok Allora io ragazzi Sentivo la merda Fare uno e due con vantaggio E veramente dire Vabbè deve morire sta stronza Te prego Perché io immagino che comunque Pure se la persuadi Sceglie lei alla fine Cioè se magari stai male Del rapporto Foto I can't believe I just did them Lady Sha will disown me What will happen to me? Not what will happen What will you do? Your past is not yet lost Your future is not yet fixed Lay a hand on me in friendship Not quite Shaaren And I will fight the battle That has been waiting for me This last century Then Oh then we will have much to discuss Our Lady of Silver Hear me She who guides the moon maiden Saluna Mother of the so-called night song The night song is no more I am received a new promise Splendent. You have given me a great gift, little warrior. Don't you find it all so curious that you would spurn your Dark Lady? Perhaps you feel a staring of the truth already. But that will come later. There is a battle yet to be fought. You have done what we feared was impossible. You have released me from a century of sorrow. Your power is great. So too must be your weapon. You must choose what you will wield. And the Moon Maiden will provide. Thus I have said. Thus will it be so. Are you ready? Sì, tutto quello che vuoi. Ma possiamo parlare un attimo, giusto? Due minuti. Di quanto fottutamente sei figa? Oh no! Non vogliamo menzionare il fatto che eri una fregna con gli abiti da prigioniera? E adesso hai delle cazzo di ali, un'armatura bianca, hai fatto una cazzin della madonna e sei puttana miseria dieci volte più figa ancora? Non ne vogliamo discutere di questa cosa? Sailor Moon? A quanto pare sì. Questa perché è proprio a tutti gli effetti un Asimar figlio di Selun. Porca puttana! Raga, c'ho le mani che mi tremano, puttana miseria. Ma quanto be... Ma la gente se ne ha giocato in 20 ore! C'è Oga poi di sfondo che dice Vabbè, ho capito. Non è il mio momento da personaggio primario. Vabbè, pronta per cosa che... Ovvio che andiamo ad assaltare Caterick. Pronta per cosa? Per andare a fare i biscotti con la nonna? Pronta per cosa? Visto che le altre sono da testa di minchia. To kill Caterick Thorn. Allora, bellissima tutta, cazzin. Perché non mi hai portato anche te, brutta stronza? Tu c'hai le ali. Io? I razzi superi il culo. Se Shara è arrabbiata e sorprendentemente silenziosa al riguardo. Ma quindi lei diventerà una Pieriga de Selun? No. E' quello che mi ha affrontato. Lei deve essere fredda. Ma... Non sento. O che lo sento. C'è solo silenzio. Vabbiamoci qui, per favore. Qualcuno che arriva, non voglio essere nel cuore di la Caterick Thorn quando mi ha trovato. La Nightsonga sarà iniziata per le tàrere di Moonrise. Dobbiamo andare là. E vedere cosa che si è iniziata contro Caterick Thorn. Adesso arriviamo, c'è lei che sgozza persone Che va avanti Mentre vola Mentre vola Credo di avere la pelle d'oca anche sulla cappella Perdonate il francesismo Sono diventato un'oca Comincio a fare honk nel microfono Che bella, madonna Ecco come si toglie la nebbia, era lei Il suo nome è canto notturno Un immortale che Cateric aveva intrappolato Dentro la coltura oscura Secondo me lei adesso si scioglie Perché da quel coca vita è lei la sua fidanzatina Ma quindi adesso arriviamo e stanno facendo tutti a botte Ah ok, sono morti anche i nostri Però minchia hanno caricato eh Unchackled from shadows Cateric will gather his strength and retaliate For now though He's on the back foot for the first time Since he returned from the grave This is it The spearhead moment You brought us this far So how shall we proceed Senti la musica Entriamo e come prima cosa Prendiamo possesso del piano terra Bloccando tutte le uscite A sound strategy Once it's done Me and my harpers will hold the ground floor While you hunt down the general himself Floric left some of her flaming fist They'll scout the prisons and the barracks below To ensure we're not taken by surprise Say the word And we're off Oh, in realtà preferirei che ti uniscia il mio gruppo Jaira I'm touched But I'm already spoken for Oh, bello, ok Però bello perché non vuole abbandonare il proprio gruppo Così sia, ci rivedremo alla fine di tutto Qualcuno deve pure proteggere le persone normali Che non sono supereroi Godspeed You seem to be their chosen champion after all Against the false absolute At the ready harpers In this light There will be victory In this light We will avenge the fallen The time has come Getherick will taste of death at last Oh, siete pronti E quella chi è? Ezrel Oh Guarda anche tutta la gente che è entrata Amiche, ma questi sono fight grossi allora Astarion, tu in realtà Per te ho altri piani, cucciolone Stai lì su Astarion Lui lo utilizziamo per flencare quei figli di puttana che stanno in alto Perché quelli sono pericolosi là in alto Perché il secondo piano è vuoto? Perché non si aspettavano qualcuno che facesse parkour Oh Bello che ci sta tutto il fight sotto E Astarion dall'altra parte Che si fa i cazzi suoi bellamente Dovrei avere una freccia realtà adatta Torniamo nel fight principale Misty step davanti a questa roba qui Tanto sono tutti sorpresi In calzare Doppio Signorina, salve, come va? Facciamoci lei Azione buona Il secondo attacco Perfetta No, ma adesso lo recuperiamo Tanto non muore Cioè ce la fa Ce la fa a farsi i cazzi suoi Fortuna del reame remoto Sul discepolo Zrel Stiamo smidando Uno morto Zelota Yogar Morto Shadow Art Lanciati in mezzo E visto che vedo un sacco di morti Rianimare zombie di livello 4 Possiamo rianimare tre non morti Aggiungiamo elementi al party, no? Uppiamo tutti quanti Così ci acchiappano bene tutti Carlac Te prego Ah è vero è immune a prono lei Che l'ho buildata apposta Me l'avevo dimenticato Il bugbear Finché attaccate gli zombie meglio, eh Dove scappi? Attacco d'opportunità Merda Vieni qua Eh rimani con un HP Perché c'hai quella roba Intanto che loro colpiscono Andiamo un attimo da Astarion Astarion Te come sta la vita? Tu sto bene? Torniamo dai nostri Facciamo fare il turno a lui Perché sono un DM che gestisce Due cazzo di party Dependerà in attacco d'opportunità? Vabbè Smaidà su uno zombie col 8 HP Me sembra un po' too much Però ognuno faccia il cazzo che vuole Allora intanto che qua fanno tutto Astarion Come sta qua la situazione? Che mi racconti? Come girano i dati? Ili di puttana Uno su quello Due su quello Anzi tutti su quello I restanti Brrrr Così bisogna cominciare ad affrontarle le merde Intanto che qui passiamo E speriamo che Astarion non muoia Madonna Astarion si è appena preso una pizza Fortissima Manca sta a far così Ah no ecco che cazzo è successo È entrato in fight da noi Astarion E si sono uniti due fight Si sono immolati Adesso vi faccio vedere una cosa Vi ricordate la roba di preservare la vita? Questa roba qui cura chiunque sia alleato Di 27 HP Quindi io direi Così benediciamo anche tutti Astarion Ho capito perché ti sei preso tutti quei danni infiniti Perché è arrivata quella vacca maligna L'azione bonus Visto che stai da solo Povera stella Effettivamente Beccate sta pozione della velocità così c'hai un'altra azione La pergamena di palla di fuoco No perché sono non morti Una pergamena di raggio di sole Sui denti Siete vivi E la madonna Eeeh Sapete allora che vi dico Arrivederci Facci vostro Quanto cazzo siete duri Ma scusa Erano uno sbrego di danni Vabbè almeno sono accecati Almeno la signorina Perché i due non morti Non è che me fregano Madonna che mattanza Qua c'è sta Mirku Che fa pepe Pepepepepepepepepepepepepe Sta fa festa perché C'è morte ovunque Eh raga ma i nostri chiappano Sono tutti benedetti da La nostra cara shadow art I nostri ce pigliano Eppure tanto Finisci questo Azione extra No perché questi sono dei fessi di un'arda Finisci la 2 Ora è morta Io direi di merare in realtà Lo zelota Perché questo è un paladino Ha grittato madonna Carla che te amo Fatto un altro crit Sì E visto che abbiamo un maestro delle armi a due mani Con il bonus possiamo fare un altro attacco Salve signorina Come sta? Tutto bene? Cazzo va bene Smite Perfetto Asarion vediamo dove vanno questi Si ritirano Ma scusa ma come cazzo fate? Ci sarà la libreria di mezzo Beh ma qua sono finiti in realtà Mancano gli stronzi sopra In realtà Pergamena di volare Salve Vuole parlare del nostro signore Gesù Cristo? Mi sa di no Eh il fatto è che In realtà qua è finito tutto L'unico che sta prende Come posso dirla in gergo tecnico Per non essere volgare? Una trapanata dei cazzi in culo? E Asarion Cioè Asarion sta là tipo Il meme del gatto Che viene assalito dai cani Intanto posso rilanciare Bagliore solare? L'ho dal sole Puttana Mi immagino Asarion Che veniva menato A pizzettoni Po 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 A un certo punto ha fatto Ho il potere nelle mani Ptum ptum Boni tutti Calmi Asarion Eh effettivamente non ho pensato Una cosa Siamo stanchi Però adesso Percepisco una punta Di invidia Forse ti piacerebbe Assistere al finale Allora Consideri di persuasa Però siamo stanchi A Asarion dove è andato Al bagno A ricucirsi le ferite? Bentorni a tutarei vivi Figlio di puttana All'altro c'è una roba Su Melodia Melodia voleva Più di Questo per te Caterick Metti fine a tutto E potresti ancora Redimati Per quanto gli sta Per arrivare Il cando notturno Dietro Tipo Atta con Titan Cioè scusa Pepe Suade Moll Che era vinti Caterick Thor Forse perché sto facendo La pressa sulla moglie There is no redemption Can't you see It is too late If Melodia could see All I've done She'd know She'd know Her husband died Long ago With Isabel Unlike Isabel He could not Be brought back Melodia Melodia ti sta aspettando Nell'aldilà Torna a Selun E le vostre anime Verranno riunite I wish It could be so I do But the moon maiden Did not intervene When my life Was dismantled Peace By peace And when I tried To buy it back It cost me everything Everything We are copper pieces In their belts Tokens To be traded For scraps You have beaten me True soul But the gods Beat me first Ma hai messo al pari Giusto con una cazzatina Sei ricco sì C'hai sti mille euro Però rispetto a Elon Musk Sì ma infatti Diciamo che sta a farsi i discorsi Però dopo che abbiamo letto Che ha praticamente Trasformata la cripta De famiglia piena De persone In roba ambulante Dizi che stavano in città E erano effettivamente Tormeri portati in vite Ma no vai via Un cazzo Non è troppo tardi Cateric La tua storia Non finisce qui Ma col cazzo Lui deve morì Mi piace come il canto Rotturne ha detto Che cazzo stai a fare tu? Zium Si è infilata in mezzo Brava Stavo aspettando solo quello Visto che non vuole Redimersi E la mia Rotturne ha detto No choice But to destroy You both Do you hear? Bow! The prism You've had it all this time You worm You will bow before me And if you will not bow You will break He will crumble at the power of your touch Give him all you have The gods fight at our side Cazzata come una paina Ci ha protetto il prisma Se noi eravamo fottuti là eh Chissà se c'è l'armatura di Cateric Anche perché è bellissimo Si lo redimiamo Ammazzate a breve Oh C'è la musica di Baldur's Gate Questo comunque sia il tema degli eroi davvero Starion di qua Easy Dama Eileen Ma quanto cazzo è bella Poi Strong Wife ovviamente Quanto cazzo è bella Progeni della Vergine a Luna No è proprio diretta diretta davvero Karlak Di qua Pergamena di fulmine Perfetta Vai in ira Così guadagni del movimento extra Visto che sei totem dell'alce Tocca al non morto Che dice E io qua in mezzo Che cazzo faccio Per Dio Sta in mezzo agli dèi Che combattono E poi c'è Lo scheletro di merda Oh ha fatto 18 danni In realtà per farcela ancora più save Metti il guardiano della fede Alla fianco Così se si muove Se prendete i danni Poi facciamo una guarigione di massa Per aumentare la capacità Di chiapparci tutti Enough My lord Beckons me You must return to your prison And my daughter must be reclaimed Your daughter Isabel Isabel You will fall as sure as she This has only begun Se l'hai rapita Per rirendersi Magari un'altra volta Immortale O qualcosa Ah ecco perché Eri così impanicata Perché te sei son culata Ah 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 Ma capito Non mi pare il modo di parlare Per una signora Dai dimmi che ci sta Visto che l'ha detto a Carlac La prima volta Che cosa abbiamo qui Aspetta un attimo Che devo assaporare Questo momento Come si deve Go on and gloat Bow to your pretend crowd All done Good Now enough sniffing around And get me out of this thing Libera Will Lo permetterò al culto di infettarti Scommetto che saresti Una schiava fedele Incredible You actually think you hold the winning hand Fine I'll play your game But I amend the pact Clause F section 9 Soulbinder shall bestow reward or favor only upon soulbearer's fulfillment of related obligation You've heard of this provision Better known as the You first clause Now Open the pod Your eyes turn to the control panel next to the pod It has two devices marked with a lithic symbols The controls are open to your tadpole's command To your authority Comunque è diventato un meme sta cosa d'autore Io mi immagino tanto tutto il dialogo Che sta con il ditino verso il pulsante Perché ne so Fare esplodere la cella Sì 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 che stai a ti Ma sai qual è il fatto star? È che in realtà La cosa dei diavoli di poter fare patti Parole e cazzi e mazzi varie Nella ma a doppio taglio Perché se un diavolo ti dice una cosa Quella è Cioè se tu quando stai contrattando con un diavolo Lei ti dice Ok accetto farò sta cosa Diventa tipo una sorta di contratto particolare Non mi metto a tutti gli inciuci Quindi deve farlo Poi se ti fa una scappatoia qua e là Eh 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 Sì sono i notari del file Sanno fare bene il loro lavoro Sono ottimi a fuga Però qua una persona potrebbe essere anche tentata ad ucciderla Ma se tu la uccidi qua succede un puttanaio Perché se muore lei secondo me Will implode Liberazione Cosciazza diavolesca Good work I'd give you a gold star But I'm fresh out As for the pact Clause Z section 13 If the soulbinder consents to separation She will release the soulbearer from all obligation within six months Six months until he's free You little rat Ignorant thing It's always the terms and conditions that get you Ma raga ma questa non è Mizzora che parla Questa Alarian Perché giustamente se lei adesso lo lascia andare a fanculo Will verdi i poteri Cioè Will diventa un commoner No ma vai Un fighter di livello nove Cioè non è che perché vuole incularsi Will È semplicemente che Cioè se no Tutta il fettone di quest di Will da Warlock Che cazzi e mazzi vari Fionda fuori dalla finestra Eh sì se la lasci qua Magino che Will fa tipo Eeeh Implode nel Nel vuoto Sei mesi non sono poi Un'attesa così lunga Right I'm out of here I need a long bath I'll leave you to your very serious business But don't you fret If you survive this place I'll find you The pup will be needing me Count on it Oh And ask Will how we met I've loosened his tongue It's real cracker Of a tale Ta da Will Me devi raccontare qualcosa Gale si è un necromante Sarà tanta roba in futuro In realtà lo potrebbe essere già adesso Perché il suo Evocare non morti Non evoca solo zombie e scheletri Ma evoca anche ghoul e gulalati Soprattutto i ghoul in combattimento Su tanta roba contro gli esseri viventi Dedico che per aprire Dobbiamo fare qua Ma non c'è stanno tipo Esatto Ma in flayer a stecca Oh Siete giusto giusto due Però tocca eliminare prima E mine flayer Perché i mine flayer Sono quelli più preoccupanti Minchia Gale quanto ha tirato alto Per toccare a lui Come è possibile Questa cosa qui Puoi evocare non morti Senza avere corpi Ah beh è vero Me l'avevate detta Sta cosa E l'avevamo anche letta Ma allora si Evochiamo un ghoul Anzi ne possiamo evocare due Uno lì E uno qua Così che li paralizzano È vero Pozione di velocità Così abbiamo un'altra azione E possiamo evocare Quattro zombie Ah io Ci stai a mettere un attimo Per spawnarli C'è traffico sulla linea C'è stato un problema Che non so Ha passato il tiro salvezza La merda Scusate Come cazzo fate a passarli Avete dudici a costituzione Oh Si è ribellato Zevlor Bella madonna Si è potenziato Zevlor Cosa Ah perché prima ti stannano E poi ti fanno quella roba Sono 10 di 10 perforanti Puttana miseria Eh ti strappano il cervello Fanno proprio così Ti stappano come una Peroni Si si attaccami pure Ok Ok Carla che veramente Una mietitrebbia Bravissima Ah peccato Allora prendilo E lancialo Verso l'altro piccolino Vai Come ai vecchi tempi ragazzi No dai È rimasto un HP In realtà io c'ho anche L'attacco colazione bonus Quindi Te dico vai là Quante ne ha fatte? 4 kill Una roba del genere E poi ti sposti qua Così se questo si alza Si prende le botte Ecco perché forse Non me li ha evocati Perché avevo i ghoul Che erano più forti Dei non morti Guardalo Tu sei comunque Ne hai fatto un cazzo Amico mio C'è un po' di confusione Sper per messo Fate passare Hanno trovato un rifugio Ma che cazzo è successo Ma vuoi un attimo spiogare? You've heard some of it Tortured them They fought And ran And died around me While I imagined myself Their savior By the time I regained My senses It was too late I did not just surrender To the absolute For a moment I welcomed it Però sì Diciamo che è stato Semplicemente fregato Dall'assoluta Lui ci è cascato Con tutti i piedi Ma sì Era quella roba del Gli avrebbe ridato I poteri Sarebbe diventato Un paladino Avrebbe potuto aiutare Le proprie persone Cioè io non gliene Faccio neanche tanto Una colpa Perché comunque Se il cervello Dell'assoluta C'ha soltanto Veramente A metà del potere Che deve avere Con tutti i cazzapippoli Che c'ha sopra Lui è un tiefling Cioè lui è un povero Cristo normale Perché lui ha sentito La voce dell'assoluta Nel cervello Che gli diceva I cazzapippoli Che l'ha fregato Poi Ha detto Eh mi hanno portato qua Ho visto che hanno cominciato A squartarli A torturarli Io ho fatto Zevlor Tanto c'è anche la cosa Da apostata Madonna Perché Oga C'è là molto Questa caccia al potere Quindi dice Sia onesto Brammavi il potere Ma non per difendere Un ideale Solo lui per te stesso Trova la tua gente Hanno bisogno di te Salve Oh comunque I miei cazzo Di tiri salvezza Non passano mai Vabbè che chissà Che cd ci avranno Effettivamente Cioè loro avranno Una cd di merda Col fatto che Sono di livello basso Sì lo so Che è un tiro salvezza Su costituzione Questo stronzo qua Quanto c'ha le cd Non lo posso sapere In nessun modo Ci stava scritto Zero Mentre c'ero sopra Ah ok Te lo dice Effettivamente il bonus Che cacchio Devono passare Meno male Ma l'hanno fatto Per bilanciarlo Ma scusa Larian Ma a me me colpisce Un gul Devo fare il tiro salvezza Che se non me la piglio In culo I miei gul Ci hanno come cd zero Cioè per fallirlo Devono fare uno E che c'ho I gul Di Veramente Di wish Faccio il reso Magari potesi No will sparks Behind his eyes His mind Has been hollowed out To better echo The commands Of the collective You could kill it And its miserable life Of enslavement Surely that would be The humane thing to do Or you could take advantage Of its vulnerability And plunder What's left Of its hollow mind For anything That could serve you Cosa cazzo Me può essere utile D'entrà Al svuotato Che fa un lavoro In oltranza Ma non gli entro Nei suoi pensieri Ma uccidilo Non c'è Scusa Ma hai detto Fino ad adesso Ucciderlo Per liberarlo Ah no Tu crei Giustamente Di ora cervelli Cosa hai fatto A queste persone Sicuramente Gli ha mostrato Come si fa il kebab Ma che cazzo Di domanda è E se ti mandassi A unirti A tutte queste creature Che hai macellato Madonna no Dai Ma povero Cristo Dove sei Vieni qua Gucciolo Dio Cristo però Oh Ha paralizzato Guarda Aspetta Facciamo veramente Il test definitivo Perché ha fatto uno L'unico mocomodo Che c'hanno Per paralizzarsi Si stronzi E se fanno uno Ma cosa vuol dire Ma mettigli la cd Incantesimi Del mago Che li ha evocati Appunti Di un esperimento Scritto nella Calicafea Precisa Di Balthasar A parte le sue Ovvie carenze Non si può negare Che il giovane corta Ci abbia la mente Di uno scienziato Prima della sua Ultima invenzione A biblioteca Illid Non era altro Che un insieme Di cervelli Messi in fila Che fluttuavano Nella brodaia Cerebrale Con il suo congegno Non abbiamo più bisogno Di alcun potere psionico Per accedere ai ricordi Contenuti in essi E' sufficiente Inserire il soggetto E parlarci direttamente Ah ok Hanno fatto uno Scandi i cervelli Vorrei tanto Che non fosse così Impaziente Di collaudare il congegno Sui soggetti Più recenti Per conto suo O che almeno Non lasciassi I trucioli Dei crani Sparpagliati Sul mio bancone Dio Cristo Che cosa Anziogena Perché Che cazzo Ha fatto Balthasar Tu metti il cervello Lì E lei parla Lei ti dice Quello che c'è Nel cervello Che cosa Sapete che Questa è una cosa Cioè se lei per sbaglio Si accorge di essere Neanche una testa Un cervello Non ti preoccupare Lascia perdere Dimmi un po' De Gortas Non ti preoccupare Già hai fatto il tuo Parte come parli Senza corde vocali Magia Questa è una roba Che ti fa indicare Che veramente Gortas E al pari Di coso Di Game of Thrones Ramsey Ah perché Lei in base al giorno Che diciamo Ci dice qualcosa Di interessante Allora io non credo Se posso vedere Ecco la webcam Di merda C'ho la cazzo Di pelle d'oca Lei è stata La prima Anima pura Ecco perché Cazzo gli serviva Sto macchina Qua è dove è nato Quella roba Che abbiamo letto Nell'altra lettera Dove Gortas Ci ha fatto la prima La prima tizia Con il parassita Che però Non si trasformava Dio Cristo Infatti Oga sta tipo Che cazzo è successo Se è divertito Se è divertito Spider-Man Inizia a manipolare La mente Ma è un enigma Ragione Memoria Emozione Parola Ah beh Devo ricollegarli Semplicemente Di là Però giustamente Ognuno Ha una via Molto ben specifica Quindi parola Devo collegarlo Dove Infatti Tutto sto roba Era Vavri qua Porta Oh E ci sta la mente Vigile Uno di quei cazzo Di Quadri Beh Deduco Che allora La mente Che ci serve È questa qua Però Questa Perché Nascosta Qua dietro Oh Questo era un Gizrei Che è quell'altro Tipo di git Che tra l'altro Si riesce a essere Così tanto Cosciente Se lei è effettivamente Uno dei primi git Che hanno fatto A pizzettoni Con l'impero Probabilmente fa parte Di quella fascia Di git Non come quelli Da adesso Che sapeva effettivamente Controbattere Contro i poteri Psichici E cazzi e mazzi vari Quindi è molto Cosciente di se stessa Anche in questo stato Beh Sei sorprendentemente Sana per essere Un cervello Sottaceto Gizrei Usa il tuo tagpole E riusciti Mi E E Mi Passare La mia Tecnica Di Vatti E quindi Ti sta cercando In cula Se vuoi il mio aiuto Dimmi la verità All right I The gate Did not find My monastery I Led them there They promised me Immortality And they gave it I have been Their rotting Trophy For centuries As her agitation Swell So does her Latent Psionic Power To your Tadpole That guilt And terror Are almost Fragrant You realize The illithids Locked her away Not as a Trophy But as a Fine Vintage Please Touch my mind And purge it The moment You do My knowledge Will be yours La smangiucchio Probabilmente Thank you I Wait No No Please Io invece Sono un coglione L'ho capita Proprio al contrario Niente F5 Fine Le scelte Sono fatte Ormai Salvo adesso Sono un coglione Ragazzi L'ho capita Al contrario Vaffanculo E questo Vedete Essere un analfabeta Di merda Ma mi ha dato Qualche abilità Mi ha dato Qualche passiva Barriera mentale Ghizzerai Avendo seminato Una scheggia Di coscienza Ghizzerai Nella mente Di questa entità Sono state Erette Delle barriere Mentali Vantaggi Di salvezza Sua intelligenza Andiamo Da Keterik Da Keterik Form Si va A spezzare Le tibie Belle Ste frasi Che hanno detto Il mio parassite Eccitato Da qualcosa Che sta Qua sotto C'è un problema Scusa Se l'assoluta Sta qua Dietro Nel capito 3 Chi cazzo Affrontiamo Chi cazzo Chi Che c'è LUC Shavang! Il testamento di Merkle Un'elderbrain Uno dei crullest e più potenti creature in existence Enslaved by mere mortals Look at that crown It radiates with power unlike anything I've ever seen To have it To hold Oh if only I could But I can't This is it I must do as Mr. Commands Tu stai calmissimo Questa cazzo di cutscene Scusate il gioco di parole Che ha fatto anche Orin Perché ha detto Baldurs Invece di Gate Ha fatto Grave In italiano non gira molto bene Questa cazzo di cutscene Da quantità De dettagli Ma Dio Cristo Che bella Perché ok ognuno è il campione Di uno dei tre morti Orin è una changeling Cioè io immagino il giocatore Che magari non se ne intende di D&D Ma Orin è una changeling Orin è pericolosa Se poi è anche la campionessa De ball E' una tizia che a piacere Può cambiare aspetto Che se può mi dimedizzare E' una fottuta furia Poi è bellissimo che ha tutta la sua armatura Fatta credo di pelle Di muscoli Perché non mi sembra un tessuto Quello mi sembra molto sanguinolento Dio Cristo E ognuno di loro C'ha una delle tre gemme Lui nel petto Lui nel guanto Lei nel pugnale Attento che Ma chi di bianco La delegazione Stavo per sparare fortissimo Eh perché se magari Una persona Non si infila molto Lei dice Vabbè bianca Hai quello strano colore Perché che ne so È de ball No 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 È perché c'ha la pelle Che costantemente muta Può cambiare Sì Gortaci umano Gortaci infatti ci sta come Campione di Bane Perché l'umano Non ho visto come La persona che cerca De fregatte Che te manipola Figa cazzo Però no Gale Mani in culo Dobbiamo arrivare al capitolo 3 Anche perché qua immagino Che se glielo diciamo di farlo Che cos'è È uno di quegli endgame Cioè hai finito Sì bravo Hai distrutto il cervello L'assoluta Però game over Vai a fatta la trama principale Cioè esatto È game over Ma Cioè È come in quei giochi Che ti dicono Se vuoi tornare Torna indietro Ti fanno tornare indietro Ti fanno bravo Hai finito il gioco Bella se siamo visti E non puoi condannarci tutti Altro bel dettaglio La concezione del multiverso Soprattutto per un personaggio Come Gale È molto concreta Fidati di me Troveremo un altro modo I do trust you More than myself right now Perhaps even more than Mystra I I have no desire to end your life You know that To end it To struggle on It is a grave choice You're making for us both But if it must be so Very well I'll stand down To stand by you Bello There we are It wouldn't do To fight in front of our guests Behold Duke Gravenguard The absolute Who preserve us You wag your word flap in vain Olderling Once the worm holds the whip Your shredded flesh Will serve us Now It's really time we were going We will empty this place And begin the march You may catch up with the army Once you've retrieved the weapon And Cetheric Do try not to sulk You're supposed to be The fearsome general Come to conquer the city And I am the hero Who will save it It is time Faithful ones March on Boulder's gate We go To prepare the way Momento simping Quanto porca troia e figa Orin E' proprio bella Madonna There you are As predicted What is it I wonder That draws one Toward death Like a moth to light You could have run away Absconded with the prism The one thing That could prevent me From fulfilling my destiny But the lure Of one's destiny Is irresistible Isn't it? Perhaps you hope To learn your place In history Before you are erased From it A bright flash of clarity Before the snuffing out E qual è il mio posto Cetheric? Your place is to die So that I might finally live Let us speak Let us speak plainly My lord Merkle gave me The one thing I desired The one thing No other god Could grant me My daughter's life Returned Her heart beating Once more For that He asked that I serve Serve as his chosen Join Oren and Gortash To grow the cult Of the absolute And then Take control of it He's never had A more devoted follower I have fought great wars before In the service of other gods And other powers But for Merkle I would condemn All of Faerun To death You are all that stands Between me and my destiny And you have brought the prism here I will kill you now And then I will raise you As my servant Qui è l'estremizzazione Di un padre Pur di salvare la figlia Di riportarla in vita Distruggerebbe tutto Ma tu c'è una persuasione Prima ero pronto a mostrare Indulgenza Non è troppo tardi Puoi ancora pentire Oga ci prova una volta Due Alla terza Desmaida in testa Quindi L'ultima chance Che c'ha in attimo Per redimete Repent Would that even be possible Perhaps No There is no repentance No release My debt can never be repaid He is here He is watching He is listening He is He is You dare end one Who belongs to me I am the smile Of the world Cleanse the skin Cleanse the scar I am the regret Of those who remain Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Oh ok E join alla fight anche la nostra signorina Vieni qui Cazzo siete sopravvissuti brutte merde Ma dai ma siete sopravvissuti con un peto di vita Sguardo della morte sul ghoul Sei sicuro? Non mi sembra Richiamo del dannato Che cazzo aspetta fammi un attimo capire Perché ha attirato tutti quanti Voi state lì Il mineflayer sta lì I signorini stanno attorno a Eileen Lì c'è l'involucro Devo distruggerli tutti sti piccoli involucri Se io faccio palla di fuoco qua Non li prendo Se faccio tempesta di ghiaccio Li prendo peli peli Ok almeno li tolgo tutti dalle palle Tocca alla nostra cara Carlac Gli emmeniamo perché gli emmeniamo Quanto c'ha a DCA? 19 Tu madre O pariamo un attimo il culo a Eileen Anzi fai un attacco su di questo Così ti prendi un'altra azione bonus Effettivamente Non possiamo usarlo E allora si va a menargli Si menano Eh Vai togliamo dalle palle pure lui Con l'ultimo Si va di nuovo da lui O ci sta qualcun altro che non sto vedendo C'è il piccolo non morto lì Eliminiamo lui vai Niente minion oggi Insomma in flayer Mi ha rotto onestamente i coglioni In realtà Mirkul Sta lì lì Carlac stai attenta Gira attorno Piano Pizzo di merda Muori Ok Mirkul L'hai mai sentite queste parole? Plus ultra brutta vacca Vai Bravissima Carlac Secondo Bravissima Carlac ancora Terzo Madonna un altro grit Questa è la mia cazzo di moglie Dio Cristo La voglio così Che mi apre il culo È andato il plus ultra davvero ragazzi Sali là sopra Gale Ok Lì ci sono altri involucri di merda Di là ci sta un non morto Allora gli involucri di merda Io continuo ad eliminarli Vai Togliamoli dalle palle C'è Caterick dentro Sì ok Non è C'è semplicemente Che l'agic è evoluto Comunque i miei cazzo di paladini Sono incazzati Come delle faine Quindi il colpo finale Lo da Oga È quasi poetico Dio Cristo Imposibile C'è nulla C'è nulla C'è nulla C'è nulla The Wretch! Together, we have crushed him, brain and body. Now, now, we pick our way toward our fates, unleashed. You have my sword. My fealty. Do what you must. Then we fly to this foul place. Il fatto è che lei, secondo me, pure diventerà, non dico una apostata, però lei tutti i stanni di torture l'hanno macchiata. Minchia, quella era proprio furia, cioè quella era rabbia. C'è un po' di sangue in questa violenza, eh sì. In death, the body is cooling, but energy radiates from the stone. Remarkable. Truly. And now the picture comes together. The Absolute is neither god nor man. It is the Elder Brain you saw, held here by those three against its will. The crown it wears controls it. And these stones control the crown. It has been dominated. To master an Elder Brain, to subdue it. Our enemies are formidable. Questo che cazzo è il momento spiegone? Cioè, se tu ne hai letto un cazzo e c'hai capito niente, lei dici, guarda, più o meno la situazione è questa. Come se è riuscito a uscire dal prisma astrale? Ok, vabbè, le gemme non glielo chiedo neanche, saranno gemme piene di mana, né teresi o qualche roba, va. Giusto per la lore, dai. Che sono queste gemme? The crown's marking suggested was forged in Netheril, an ancient empire whose mastery over magic rivaled that of the gods. It is a crown of domination. The stones were taken from its crest. They are netherstones, imbued with the ability to control the wearer of the crown. The crown's Netherese magic must be the true source of the parasite's abilities. This must be what elevates their potential. And it must be the reason nobody could heal you. If the crown can do this to the parasite, I dare not imagine what it is doing to the brain. Netherese? He's chosen a powerful indeed to have such magic in their command. Per farvi capire leggermente il livello di potenza, no? Vi ricordate quando nella scorsa live vi ho spiegato che un tempo c'erano gli incantesimi di livello sopra al 9 in D&D? Ecco, avere queste gemme ti permette bene o male di utilizzare incantesimi e una potenza magica ai livelli tipo incantesimi livello 12, 13. C'è quella solfa lì. Vabbè, questo proprio devo farmele tutte per forza, sai chi sono i nostri nemici? One of them I know, Lord Enver Gortash, an arms dealer and a slaver. A worshipper of Bane, the god of tyranny. The other is a mystery to me, but the way she spoke, it is most likely she follows Baal, god of murder. Cetheric was a follower of Merkel, which means the Absolute is a front for the gods of death and our enemies are the chosen of the dead three. Ripeto, ho scritto insieme a quelli di Baldur's Gate la drama, cioè quello che ho detto proprio qualche live fa, meno male però figata. E che facciamo ora? We prepare for the fight of our lives, and the lives of everyone in Faerun. The army of the Absolute is marching on Baldur's Gate. Within the city, an elder brain brimming with power, ready to turn everyone within its reach into mind flayers. All it needs is an order, an order the Death Gods Chosen are on the cusp of giving. We must wrest control of the brain from the Chosen before that happens. We must take their stones. Our chances of success are slim, but we must not fail. If we fail, everything ends. I will be your shield, but you must be the sword. And when the chance comes to strike, you must take it, for there may only be one chance. What the fuck was he doing down there? Is all of this because of him? The tadpole, the Absolute? How? Sembra che sia un servitore di Bane come Cateric lo era di Miracle. Chissà quali poteri ha acquisito dall'ultima volta che avevo da che fare con lui. I never have protected a Baneite even a decade ago. I looked after that fucker with my life. I trusted him. He gave me away to Zahriel without a second thought. And now he's looking to ruin the entire Sword Coast. He has to die. And I'm gonna be the one who kills him. Cazzo, lo faremo insieme a qualsiasi costo. Can't get away with what he's done to me, to us. He won't get away with it. Ah, questo è proprio ritrovo. Madò. Quindi abbiamo finito veramente il capitolo 2. Che bello. Finalmente. Sembri di buon umore. Pensavo che arrivare un pelo dall'esplodere di aver preso un po' più mogio. Vedo. Vedo. Under other circumstances, I might have been subdued or ashamed. But after what we saw, I must admit, I'm excited. Who are you? The crown. The one the Elder Brain was wearing. Netherese magic. So pure, so complete, that I didn't even recognize it at first. Most Netherese artifacts contain only the faintest amount of their former power. The ghost of an echo of a memory. The crown was different. I can't fathom how such a wonder survived. Surely everything of its ilk was destroyed along with Netherreal itself. But. No matter. Stai calmissimo, perché se stai pensando di ascendere a divinità tramite la corona, buono. Se vede proprio che stanno fatto proprio con lo stampino da mago classico. Sei arrivato un pelo dall'ucciderti, forse ti serve un attimo di cazzo di pausa. I know what nearly happened. And I'm sorry for putting you in that position. But I've stepped back from the precipice now. I've seen what may prove to be another way. A better way. That crown sits on our gargantuan elder brain, bent on destroying us and everything we hold dear. Understanding its true nature might unlock the means of our victory. We need to learn more about what we saw. An artifact as powerful as that crown must have been documented somewhere. As luck would have it, we'll soon find ourselves near one of the finest book collections this side of Candlekeep. Sorcerous Sundries. I need to go there and learn all I can. Ok no, forse non la vuole per qualche, però mi sembra strano, mi sembra più interessato all'ottenerla, utilizzarla che allo studiarla. Quindi vuoi solo andare a fare acquisti. Book shopping? But yes. Their collection of rare tomes is unparalleled. Nethery's techs are hardly commonplace, but I'm certain they'll have one or two stashed away. You'll have to forgive my eagerness, but if my suspicions prove to hold water, this could be the answer to all our problems. Eh, non sarà come a Starion, ma è un mago comunque, eh. I maghi, soprattutto quelli umani, sanno essere molto molto pericolosi e c'è addirittura abbizzito. Andiamo alla dama Aelin. Aelin! Isabel! My love! You were dead! I saw your body! I'm here. And... And so are you. And my father, he... He can't hurt us any longer. I dreamt every night that you'd come back to me. That somehow it was all a nightmare Dawn would undo. I had no dreams at all. Nothing but darkness. And when I woke, my father said you were dead. His soul was poisoned by the God of Death. His sick devotion ruined him. But for all his sins, he brought you back to me. Are you alright? I will be. And you? In this moment, I want for nothing. Oh, there you are. This is Aelin. Aelin, this is... Oh, but we have met. This is the soldier that freed me most valiantly from the Shadowfell. They watched my boot crush the very brain of villainy. And fought well against your changed father. May he rest in peace at last. Now that he's dead. I have more to thank you for than I knew. And we have much to discuss. Perhaps we could join you in your camp later. Detto che dovete fare le cosacce, vero? Evviva Yuri! Prendetevi una stanza. Più cazzo la cosa è mai sorpresa. E che io sono abituato con Karlak. Quindi l'altezza bene o male è uguale. Lei è una tappa rispetto a... Come cacchio si chiama? Aelin. Siete le benvenute. We look forward to it. You there, Sharon. By the fires of your camp's hearth, we will discuss all we must. I'll be ready. Whatever you have to say, had better be worth your life. Now you will leave us. We must take sucker in one another's bodies and words. Aelin! We'll see you later. Ma scusa, ma hai mai detto in modo formale e gentilmente che te la stai andando a bombare? Oh, c'è anche Art qui! When Duke Elton formed the Flaming Fist, he sought out people of courage and honor to fill its ranks. You saved Daniel. Lifted the curse and killed an immortal. It's safe to say you'd have been recruited in an instant. Più che altro da che ci penso, oppure la storia d'amore dei Lin e Isob beh, non è tanto bella, eh. Una è nasi i mari immortali e quell'altra credo sia una mezz'elfa, quindi 200 anni che mi dici dei pugni fiammianti che hai incontrato qui e cosa pensi di loro? Sono... diversi da quello che Duke Elton ha avvisato e non posso commentare su Duke Gravengaard ma ho visto il rispetto che ha inspiraato nella Flaming Fist e questo mi dice tutto che ho bisogno su lui come leader. Ho spero che puoi salvare Duke Gravengaard per il buono di Baldur's Gate. Vieni con me? Mi farebbe comodo? Aiuto di un pugno fiammante. Dobbiamo prendere alleati, no? Grazie ma guardami sono un relic un glimpsio di storia che non è forte per stare sui due piedi. Inoltre il Daniel dovrebbe avere qualcuno qui quando si ucciona. È il meno che posso fare. lui, beh, non male è Capitan America comunque. Cioè, è un umano che è stato addormentato e intrappolato per tipo un centinaio o duecento anni e adesso si trova cioè, da un'altra parte totalmente. Che tra l'altro adesso ho capito perché tu stai con noi perché giustamente lui è Gergal quello che prima gestiva il dominio della morte. Noi stiamo contro i tre tizi che si sono messi al posto suo. Ecco perché sta con noi ci vuole dare una mano. Eeeh adesso si ricollega il puntino Jeyra Bella sta frecciati nei vecchi giochi. Sembra quasi che tutto questo ti diverta. Sto cominciando ad apprezzare la situazione. Quando ci siamo mette I was licking my wounds an old bear with her leg caught in the hunter's snare now I've slipped free of the trap and rediscovered my claws it's time for me to hunt my prey you have a netherstone and you're on the scent of two more these chosen have reason to fear you and I would like to be at your side when you confront them. Vabbè perché lei in realtà vuole andare a cacciare quello di Baal perché lei è collegata a Baal più che altro cioè pure Bane per carità non è che è propriamente pepe pepe però sarei felice di averti al mio fianco glad to be there falling foul of Ketheric convinced me that my grand adventures were behind me that even if I survived I should hang up my blades but you convinced me otherwise we ventured into darkness together now we've come out the other side I'd say I'm feeling a little refreshed when we reach Baldur's Gate there will be even darker paths to tread I will follow you wherever they lead ma quanto cazzo sono belli i doppiatori comunque madonna il doppiaggio è qualcosa di unico con Alfira e basta mancano tutto bene secondo me invece lo apprezzano prima non la sapevi questa adesso la sai sai lost i Baldur's Gate ma aspetta mi sa se ci sta qualche cosa però mi sa che non mi fa nessuna interazione perché non sono un bardo che bello il violino Carla che balla no mi sa che solo se sei un bardo puoi fare qualche interazione oh ok no potevi farlo effettivamente ma vizzito mi stai per dire chi sei veramente a curse lifted the dead three allied once more the balance shifts there are depths to this alliance yet unplumbed consider mortal do illithids possess souls tecnicamente no però per quanto da dm so ci ha alcuni sì ma perché dipende dallo stato in cui si sono trasformati perché il fatto è che una volta che tu ti trasformi e non sei abbastanza forte osculato e finisci sotto il controllo della mente alveare fine la tua anima fa puff se ne va via se invece mantieni riesci a mantenere il tuo senno come l'altro signorino che abbiamo incontrato sì cioè puoi mantenere la tua identità con un corpo differente ma appunto perché la roba dei mind failure non è così semplice soprattutto nei Forgotten Reams come un te trasformi è una cosa molto più complessa sembri conoscere bene i tre morti parla chiaro non c'è altro che puoi dirmi fatta scoprire l'or stronzo anche detto va bene mi avvicino perché dovrebbe smaitarmi sulla testa a caso no non c'è Sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. La lancia della notte pensavo che fosse finita in una coltroscura, eh no, mi sa che adesso la trasforma in qualcosa di Selun forse. Sì. La lancia del vespo di Selun, 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 minchia, tra l'altro è un equipaggiamento leggendario. Sì, sì. Sì, sì. Adesso la verità sta iniziando ad emergere. Ovvero? Adesso me la trovo che mi vuole aprire, mi vuole sacrificare a Selun. Ma scusa, ma così? Che cosa hai fatto insieme a Eileen e Isobella? Stanotte ti sei fatta i capelli, ti sei scolorata i capelli. Che bella! Allora non era una mod. Perché voi dovete sapere che in questi tempi un sacco di persone a me mi hanno mandato dei TikTok in cui io vedevo Shadow Art con i capelli bianchi. Ogni volta facevo, oh figata, c'è la gente che mette la mod per cambiargli i capelli, fare qualche cosa. Non era una mod! Maledetti! Fino ad adesso mi avete spoilerato! Perché i tanti stanno bene, ti devo rifare tutta l'armatura, però lo adoro. Ma in realtà l'ha proprio cambiata in totale là, perché, scusa, ma non è cambiato il ridratto. Ma dai, l'Arian! Madonna che bella però così! Lei ha avuto il mio stesso pensiero, perché adesso non ha più la frangetta! The curse has been lifted, the lands cleansed of the shadows. Catherick's reign of living death is over. Your courage has been tested, and in this at least, you have triumphed. Come the sun! Come the sun! Come the sun! Come the sun! Be Sì, Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Orin, cacciate fuori. È che non lo sapevo. Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì. 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 Vedetta del... Madonna di Cristo. Ma questa è tutta roba che possiamo esplorare. Però Orin è bellissima esteticamente. C'ha anche i capelli fatti tipo a sorta di mazzetta alla fine. C'ha qualche cosa di quel tipo. Bello, bello, bello. Finalmente a Bald... No, in realtà siamo ancora fuori. Mi sa che ci sarà ancora una zona prima di Baldur's. Però figa. Figa, ok. Io però adesso ho paura. Perché sapendo che ci sta un changeling in gioco è pedicoloso. Ma più che altro proprio loro tre. Perché avere Orin? Cioè per un lavoro così di fino, così piano, ultra mega architettato. Cioè invece una schizzata pazza assassina che sta in mezzo ai coglioni che sgozza le persone. E che pregabal, non me pare. Esatto, è un po' troppo rumorosa. Vedremo, per carità. Ent números. Non. Cioè. Sapé. Sapé...